Buonasera e ben ritrovati da Fabio Camillacci. Benvenuti ad una nuova puntata di Crimini e Criminologia su Cusano Italia TV. 9 maggio 1978, Aldo Moro viene ritrovato morto nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani nel centro di Roma. Una strada simbolica scelta dalle Brigate Rosse proprio perché si trova a metà tra via delle botteghe oscure dove all'epoca c'era la sede del Partito Comunista Italiano e Piazza del Gesù dove si trovava la sede della democrazia cristiana. Quindi i due partiti protagonisti di quello che è passato alla storia come il compromesso storico. In questa puntata di Crimini e Criminologia vi racconteremo i tanti misteri legati a quei 55 giorni del caso Moro. A partire però dal 16 marzo 1978, il giorno della strage di Viafani, l'uccisione dei cinque uomini della scorta e il rapimento dello statista democristiano. Lo faremo grazie alla video inchiesta di Gianluca Cicinelli coperti a destra. La verità indicibile sulla strage di Viafani che smentisce la versione concordata tra Brigate Rosse e Stato italiano. E a proposito poi di quello che è il titolo, che sarà un po' il filo conduttore di tutta la puntata odierna di Crimini e Criminologia, al di là dello spazio che torna con la rubrica La Galleria degli Orrori, il titolo di questa parte della trasmissione è quello che vedete, Caso Moro, i misteri del Caso Moro, 44 anni dopo, coperti a destra. Chiedo alla regia se abbiamo il collegamento con il primo ospite di oggi oppure andiamo con la copertina. Quindi cominciamo introducendo l'argomento e vi riproponiamo il servizio che realizzammo proprio con immagini tratte dalla video inchiesta di Gianluca Cicinelli coperti a destra, immagini storia fatti legati proprio ai 55 giorni del Caso Moro, ma con una particolare lente di ingrandimento puntata su Via Fani, Via Mario Fani e la strage di Via Fani. Il servizio è firmato a Aurora Vena, montaggio di Claudia Difonso. Sono trascorsi 43 anni dal rapimento e dall'assassinio di Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana, ma la vicenda resta ancora una delle più difficili da raccontare. È la mattina del 16 marzo del 1978. Moro esce dalla sua abitazione pochi minuti prima delle 9. Ad attenderlo davanti al numero 79 di Via del Forte Trionfale, il caposcorta maresciallo dei Carabinieri Oreste Leonardi, l'appuntato Domenico Ricci e tre agenti di polizia, Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Il presidente dell'ADC sale a bordo della Fiat 130 e siede sul sedile posteriore della prima automobile. Di fronte a lui l'autista Domenico Ricci e il maresciallo Leonardi. I tre agenti li seguono in una seconda macchina, un'alfetta. Pochi minuti dopo le 9 le auto imboccano Via Mario Fani, quartiere trionfale, dove le strade sono larghe e poco trafficate. La via è leggermente in salita e le macchine che arrivano da Via Trionfale sono costrette a rallentare prima dello stop all'incrocio con Via Stresa. Verso la fine di Via Fani, una Fiat 128 familiare guidata dal brigadista Mario Moretti esce dal parcheggio e improvvisamente inchioda, provocando il tamponamento dell'alfetta di scorta con la Fiat 130 del presidente. Intanto, una seconda auto con due brigatisti a bordo esce dal parcheggio, come aveva fatto Moretti, e si mette in coda al convoglio. Un'altra automobile ancora si trova invece nel mezzo dell'incrocio, con il compito di tenere lontani i curiosi ed eventuali auto della polizia. È in questo momento che, da dietro le siepi del patio del bar Olivetti, spunta il gruppo di fuoco. Quattro persone camuffate con le divise all'Italia. Le raffiche di proiettili uccidono in pochi secondi i cinque uomini della scorta. Solo Iozzino riesce a uscire dall'auto e a rispondere al fuoco prima di essere freddato. L'azione dura pochi secondi. Almeno 93 i colpi esplosi, di cui 45 raggiungono gli agenti. L'ex presidente del Consiglio viene prelevato e fatto salire su un'altra auto del commando, entrata in retromarcia da Via Stresa. La prima chiamata al 113, in cui una voce in forma di una sparatoria in via Fani, è delle 9.03. Quindi è probabile che proprio in quei minuti le auto delle BR stessero percorrendo a gran velocità le strade del quartiere Montemario, per allontanarsi dal luogo della strage. Il piano dell'Aguato colpisce ancora oggi per la sua minuziosa pianificazione, ma anche per la serie di interrogativi rimasti senza risposta. La vicenda a Moro, a partire dalla strage di Via Fani, fino al 9 maggio del 1978, in via Caetani, il ritrovamento del corpo senza vita dell'onorevole Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. E allora, come abbiamo già detto in apertura, prima del servizio che avete visto, questa puntata è strutturata sulla videoinchiesta di Gianluca Cicinelli, coperti a destra. Abbiamo anche la copertina, la foto di copertina, che riguarda questo lavoro d'inchiesta, in maniera particolare del collega Gianluca Cicinelli, che stiamo cercando di contattare e di raggiungere. Ecco, lo vedete, questa è la copertina del DVD, che riguarda proprio questa particolare videoinchiesta, direttore della fotografia e riprese di Lorenzo Lattanzi, presa diretta Valerio Burli, ripresa in interni Rocco Orsini, montaggio Stefano Cocca, animazioni Stefano Beck. Dunque, riflettori puntati in questa videoinchiesta, più che sul ritrovamento poi del corpo di Aldo Moro, di cui ricorre l'anniversario, appunto il 9 maggio del 78, sono passati 44 anni da quella giornata, dicevo riflettori puntati, sui primi 90 secondi del caso Moro, ovvero l'azione disparatoria di via Mario Fani, scattata intorno alle ore 9 del 16 marzo 1978, quando le BR uccisero i 5 uomini della scorta dello statista democristiano, poi rapito dalle stesse Brigate Rosse. 90 secondi, un lasso di tempo strettissimo, rispetto ai 55 giorni dell'intera vicenda. Da sempre in Italia ci si divide, tra puristi e complottisti, cioè tra coloro che ritengono che il delitto Moro sia stato soltanto opera delle Brigate Rosse, e coloro che invece sono convinti che all'interno di questa organizzazione terroristica vi siano state convergenze tra gruppi criminali di varia natura, servizi segreti, terroristi stranieri e altro. A via Fani si scatenò il più alto volume di fuoco mai visto in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, le riprese di Gianluca Cicinelli per la videoinchiesta coperti a destra partono dall'Università di Roma. La Sapienza perché? Perché ricordiamo che il professor Aldo Moro era anche un professore appunto, quindi docente alla Sapienza, ma era stato alla Sapienza il 15 marzo del 78, il giorno prima della strage di via Fani. E allora andiamo a svelare un primo mistero, un primo aspetto che forse pochi conoscono, perché il giorno prima della strage di via Fani, il 15 marzo del 78, in piazza Galeno, si verifica per il corteo del presidente della DC Aldo Moro un incidente, una situazione simile a quella che poi si verificò il giorno dopo in via Fani, quando ci fu proprio la sparatoria e la strage. Andiamo a vedere come ha raccontato questo fatto sul posto nella sua videoinchiesta Gianluca Cicinelli. Il 15 marzo del 1978 una prova generale o quella che sembra tale dell'agguato del 16 marzo in via Fani si verifica in piazza Galeno dove sta arrivando la 130 con a bordo Aldo Moro seguita dall'alfetta della scorta di provenienza dall'università. Aldo Moro sta andando verso il suo ufficio in via Savoia 88 e a causa di una pioggia battente la macchina davanti alla 130 inchioda costringendo anche la 130 a frenare. Non farà in tempo per frenare invece l'alfetta che segue Aldo Moro. Ecco, questo avvenne proprio il giorno prima della strage di via Fani una particolare dobbiamo dire in qualche modo anche diabolica coincidenza ma in tanti si sono chiesti chissà fu voluto quell'incidente in piazza Galeno per cercare di capire quella che sarebbe stata la reazione della scorta di Aldo Moro a quell'evento. Nei giorni precedenti il maresciallo Leonardi il capo scorta di Moro si era lamentato per la scarsa distanza che l'alfetta di scorta teneva rispetto alla macchina del presidente e proprio prevedendo che nel caso di frenata improvvisa sarebbe potuto accadere esattamente quello che accadde poi il 16 marzo del 78 a via Fani ma che avvenne anche il 15 marzo quindi il giorno prima. Ecco fu causato dicevamo volutamente dai brigatisti quell'incidente in piazza Galeno per osservare appunto quello che avrebbe fatto la scorta nel caso di un impatto di questo tipo ma vediamo ancora un contributo tratto dalla video inchiesta di Gianluca Cicinelli coperti a destra piazza Galeno. Noi siamo a conoscenza dell'incidente del 15 di marzo esclusivamente perché esiste un brogliaccio di servizio in cui l'agente alla guida dell'alfetta deve fare un verbale per giustificare il motivo della rottura dell'auto che verrà sostituita poi durante l'ora di pranzo infatti l'alfetta del 16 marzo non è quella dell'incidente del 15 di marzo ma come dicevo noi siamo a conoscenza di questo particolare esclusivamente per questo brogliaccio l'autista della 130 invece una volta interrogato sia in fase di processo penale che per quanto riguarda le commissioni di camerali di inchiesta che si sono occupate del caso Moro negli ultimi anni non ricorderà di questo incidente seppur incalzato più volte dal presidente del tribunale dagli avvocati ma anche dai componenti della commissione dirà di non ricordare assolutamente questo episodio eppure è un episodio molto importante perché chi si fosse trovato a osservare cosa accade il 15 marzo saprà anche cosa sarebbe accaduto il 16 di marzo ecco lo sottolineava proprio in questo contributo della video inchiesta coperti a destra a Gianluca Cicinelli questo primo mistero nel caso Moro un mistero precedente addirittura la strage di Via Fani il giorno prima lo strano incidente in piazza Galeno a Roma siamo riusciti pare almeno finalmente a metterci in collegamento con Gianluca Cicinelli lo ritroviamo con più capelli rispetto a quelli che abbiamo visto in piazza Galeno buonasera Gianluca che però non mi sente mi senti? e evidentemente ci sono problemi non so se ha un ritorno più difficile e stava per rispondere perché vedevo che sorrideva buonasera Fabio e poi ti sento ti sento io ti sento però vediamo un po' a scatto stasera è difficile stasera è dura stasera stasera è complicata per riuscire a collegarci credo che no ci sono problemi allora visto che abbiamo quasi diciamo dei minuti ancora prima di arrivare alla chiusura del primo capitolo di questa puntata di crimini e criminologia chiedo magari alla regia di preparare il contributo con lo storico Gianluca Falanga perché allora andiamo avanti con il racconto e andiamo a svelare sempre grazie alla video inchiesta di Gianluca Cicinelli un altro aspetto particolare un altro mistero che si collega a quello che è stato poi il caso Moro perché e anche questo è un fatto che magari pochi conoscono poco prima della strage di Via Fani cioè nel settembre del 1977 in Germania la RAF quindi qui parliamo di terroristi tedeschi la Rotarme Fraktion rapirono l'allora presidente di Confindustria della Germania federale di quella che era all'epoca la Germania Ovest una Germania ancora divisa tra Ovest che faceva parte per così dire del blocco atlantico e la Germania Est in ambito di guerra fredda invece legata all'Unione Sovietica al blocco orientale fu rapito il presidente della Confindustria tedesca Ann Martin Schleyer ecco e avvenne con praticamente la stessa identica dinamica che poi purtroppo si è replicata si è rivista in Via Fani su quell'inquietante episodio inquietante perché il rapimento di Ann Martin Schleyer alla fine poi come abbiamo sottolineato è molto simile come dinamica come proprio azione di commando alla strage di Via Fani lo storico Gianluca Falanga intervistato proprio da Gianluca Cicinelli ha ricordato come la modalità della strage di Via Fani e del rapimento moro fu la stessa usata pochi mesi prima dal RAF per rapire Schleyer e allora ascoltiamo quello che ha detto lo storico Gianluca Falanga in questa strada fu preparato questo agguato con la cosiddetta tecnica del cancelletto cioè sbarrare la via al convoglio in questa strada era percorribile in una sola direzione per cui era chiaro che avrebbe entrato da una certa parte e fu preparata con la tecnica del cancelletto questa trappola il convoglio di Schleyer era composto di due Mercedes Schleyer viaggiava con l'autista l'autista non era armato e viaggiavano nella prima autovettura seguiti dalla scorta che era composta invece da tre persone da tre agenti di polizia a loro invece erano armati e il cancelletto praticamente fu costituito da una Mercedes guidata da Stefan Wisniewski che era un militante della RAF che pretende in retromarcia invade la carreggiata e dall'altro lato arriva invece Siglin de Hoffman anche lei della RAF insieme a Peter Jürgen Bock che praticamente fingono di essere una coppietta con un bambino dentro un 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 passeggino insomma il passeggino e la Mercedes sbarrano la strada avviene la frenata e la macchina di dietro con la scorta va a urtare la macchina di Schleyer e a quel punto poi i militanti della RAF tirano fuori le armi e in pochi un minuto e mezzo di sparatorio praticamente una cosa rapidissima più di 120 colpi sono stati sparati armi automatiche sovietiche di fabbricazione sovietica e sono stati la scorta è stata trucidata uno dei tre è riuscito a uscire ma è stato poi fulminato e poi hanno tirato fuori Schleyer e l'hanno portato via con un altro veicolo un furgoncino della Volkswagen l'hanno poi portato cambio di cambio di autoveicolo anche questo molto simile al sequestro Moro e poi portato prima a Colonia in un appartamento quindi è rimasto praticamente nella città per diversi giorni quello è il primo cosiddetto carcere del popolo poi Schleyer è stato trasferito in in Olanda e in Belgio e lì è nella parte conclusiva del sequestro e questo era lo storico Gianluca Falanga intervistato da un altro Gianluca da Cicinelli che ora pare sia riuscito a mettersi in collegamento con noi Gianluca buonasera buonasera a voi si sente? adesso ti sentiamo forte e chiaro intanto abbiamo visto quest'altro aspetto abbiamo fornito delle situazioni che magari in pochi conoscono la questione di Piazza Galeno e poi anche questa incredibile analogia tra il rapimento dell'allora presidente di Confindustria tedesco Ann Martin Schleyer ha detto lo storico che tu hai intervistato Gianluca Falanga proprio ha parlato di un minuto e mezzo di sparatoria quindi 90 secondi di via Fani che tornano intanto la regia di Emanuele Forcina ricorda che in sovraimpressione per Whatsapp ed SMS ci potete scrivere per dire la vostra o porre domande dei nostri ospiti 334-92-29505 sms o Whatsapp 334-92-29505 poi su questi aspetti magari Gianluca ci torneremo intanto visto che ne abbiamo parlato perché coperti a destra? ecco perché è così importante il lato destro di via Mario Fani? ma intanto proprio per l'estremo tentativo di non dare importanza al lato destro che la ricostruzione ufficiale che esattamente poi la ricostruzione fatta dal brigatista Valerio Dissociato Valerio Morucci ma è una ricostruzione su cui poi hanno messo le mani in molti negli anni la ricostruzione viene fatta da Morucci e Adriana Faranda e però diciamo così poi vede anche il contributo di alcuni esponenti del Popolo che è il giornale della democrazia cristiana è il suo direttore c'è una suora che è fatta tramite che insomma nelle carceri è molto ben voluta anche dai detenuti il suo Teresilla che consegna questo memoriale direttamente al presidente Cossiga ministro dell'interno durante il rapimento Moro e insomma questa ricostruzione ufficiale che poi viene accolta anche nelle sentenze giudiziarie ha un obiettivo preciso cioè sostenere che da destra non si è sparato perché? perché se contrariamente a quanto è sempre stato affermato venisse fuori che si è sparato a destra tutta diciamo la ricostruzione di conografia del caso che è riscritta perché la presenza a destra di altre persone o tra quelle già dichiarate da appunto dai brigatisti la debbe luogo all'ipotesi che ci fossero persone che o non erano brigatisti o comunque sono persone in più rispetto a quelle che già sono state identificate e condannate anche all'ergastro e che hanno già scontato la loro pena tra l'altro questo va ricordato sempre o peraltro va detto lo sottolinei nella tua video inchiesta le brigate rosse in via Fani lasciano per terra prove certe poi tanti equivoci sollevati dai tanti testimoni della vicenda e poi tornando a Piazza Galeno c'è questo mistero del verbale che riguarda l'incidente l'autista smentì che avvenne l'incidente il giorno prima del 16 marzo 78 ricordiamo ovviamente non era l'autista Ricci era un altro quello dell'incidente di Piazza Galeno però perché questo mistero attorno a quel fatto anche questo fa pensare beh chiaramente appunto se stiamo qui tanti anni dopo a parlare del caso Moro perché purtroppo ci sono forse non migliaia ma centinaia di episodi che non si capiscono molto ecco come questo qui che citavi e sì c'è un verbale un brogliaccio che viene ritrovato appunto tra i tanti materiali prodotti e raccolti in questi anni dalle varie commissioni parlamentari non capisco come mai possa essere sfuggito sta di fatto che l'autista che come tu ricordavi non era dunque va detto anche che l'autista che non ricorda l'episodio dell'autista della macchina su cui viaggia Moro materialmente all'interno e che la macchina è gestita dai carabinieri mentre la macchina che rimarrà danneggiata il 15 marzo è l'alfetta della polizia e c'era stata una polemica nei giorni precedenti tra il maresciallo Leonardo che era poi il caposcorta effettivo e la polizia diciamo è funzionale di polizia perché sosteneva che se la macchina restava a pochi metri come purtroppo poi è successo questo avrebbe reso impossibile eventualmente liberare la prima macchina da un agguato quindi sosteneva aveva più senso che la macchina procedesse molto più indietro e in caso appunto la 130 rimanesse imbottigliata in un volume di fuoco come quello che si è sviluppato avrebbe potuto a sua volta attaccare gli attaccanti invece il 16 marzo accade proprio questa cosa e il 15 marzo invece in piazza Caleno si verifica una situazione identica con persone diverse a bordo quella del 16 cioè forse a causa della pioggia oppure forse a causa di una prova generale quindi un tentativo da parte di chi all'innomani rapisce Moro frena di scatto la macchina davanti la 130 fa in tempo a frenare non frenerà l'alfetta e abbiamo questo foglio questo foglio quindi non c'è possibilità di equivoco la macchina l'alfetta che il 15 marzo poi subisce questo incidente non è l'alfetta che viene grivellata di colpi il 16 come tu ricordavi l'altro aspetto curioso curioso ecco dunque dobbiamo dire che il che Riccioni che è l'autista della macchina al momento dell'impatto in piazza Galeno negherà in tribunale e anche poi dinanzi alla commissione di inchiesta parlamentare che si è accaduto questo incidente mentre invece ce ne parla Eleonora Moro ce ne parla Eleonora Moro in un processo e cita come fonte lo stesso Leonardi tra l'altro c'era stato anche questo incidente sostiene e lo dice dando ragione alle parole di Leonardi che appunto aveva come chiave generale di lettura tra la distanza delle due macchine proprio la sicurezza la possibilità che l'alfetta distanziata potesse invece essere utile in caso di agguato Riccioni se posso permettermi Fabio una cosa interessante perché si è sempre detto che Moro non ha mai citato gli uomini della scorta nelle sue lettere sia tra l'altro molte poi non furono neanche recapitate comunque non è vero perché Riccioni era un uomo della scorta rimase poi appunto per il turno che non faceva toccò a Ricci cadere sotto il fuoco brigatista ma Riccioni viene citato nell'ultima lettera di Aldo Moro che chiede alla moglie di far continuare a far giocare il nipotino con i figli della signora Riccioni ecco questo è un particolare che da una parte ci dà anche un po' la dimensione del rapporto di Moro con gli uomini ormai quasi familiari con gli uomini della scorta e dall'altra però rende ancora più strano questo particolare che non ricorda che Riccioni non ricorda questo episodio è stato non è mai stato valutato eppure sembra insomma ecco proprio la prova generale oppure anche se non fosse stata una cosa voluta è strano è strano che si verifica fa pensare che qualcuno stesse lì a guardare le conseguenze della frenata improvvisa perché proprio il giorno prima è chiaro quindi questo è un altro dei misteri di cui non è stato posso approfittare lo sai che sono polemico possiamo aspettare un attimo ne ripartigliamo in apertura di secondo capitolo perché siamo andati lunghissimi dobbiamo dare la linea alla regia poi torniamo subito intanto lo anticipiamo che se il collegamento ci assiste Gianluca Cicinelli sarà con noi finale 23 quindi hai modo di sottolineare anche altre cose e allora linea Emanuele Forcina e torniamo tra pochissimo e ben ritrovati da Fabio Camillacci il secondo capitolo di Crimini e Criminologia continuiamo a parlare dei tanti misteri del caso Moro 44 anni dopo e soprattutto con la video inchiesta di Gianluca Cicinelli coperti a destra sempre collegato con noi il giornalista investigativo ed inchiesta nonché scrittore ha scritto libri e ne abbiamo parlato in un'altra puntata sul caso Davide Cervia in maniera particolare ma si è giunto alla nostra trasmissione a questa puntata di Crimini e Criminologia un altro graditissimo ospite che abbiamo collegato Paride Minervini buonasera benvenuto a Crimini e Criminologia buonasera consulente balistico ha partecipato ad alcune tra le perizie più importanti della criminologia italiana è stato anche consulente della commissione Moro 2 e ha parlato Minervini dei tanti lati oscuri di Viafani soprattutto nella strage di Viafani nella video inchiesta di Gianluca Cicinelli che come vede è collegato con noi io le chiedo saluto Gianluca saluto intanto vi salutate giustamente in presa diretta quello che le chiedo subito anche avendo visto la video inchiesta di Gianluca Cicinelli è che abbiamo saputo i terroristi stessi i brigatisti dissero di non essersi mai allenati all'uso delle armi che non erano addestrati e poi abbiamo saputo che non avevano armi molto affidabili ecco lei da esperto balistico è possibile mettere in pratica un'azione del genere un'azione da commando speciale in 90 secondi come è stata la strage di Viafani con armi poco affidabili e così con così poco addestramento beh tutto la nostra ospitalità che vuol dire entrando subito a gamba tesa sul discorso delle armi bisogna fare un'osservazione importante noi abbiamo nella video inchiesta si vede delle armi di tiro cioè dei centri di proiettile per chi non conosce la materia della balistica ben precisi cioè delle armi di tiro molto strette mentre nello stesso momento abbiamo dei colpi di arma da fuoco nel palazzo di fronte al secondo piano cioè abbiamo si passa dalla massima precisione a un'imprecisione massima e questo è un particolare secondo noi molto molto importante poi abbiamo un'altra cosa importante abbiamo chi le armi che si inceppavano gente che ha perso il caricatore fondamentalmente in un'azione che è stata creata nel minimo particolare come cancello alto cancello basso un fronte di sparo copertura una sezione logistica una parte logistica e tutto il resto lascia un po' pensare che all'interno ci siano delle persone che abbiano poco l'uso delle armi ma anche le persone che hanno un buon uso delle armi non dimentichiamo che il numero non è stato ferito non ha nessun nessun tipo di ferita addosso insomma di proiettili in quel momento lì ne sono stati sparati tanti l'altra cosa fondamentale rimane sempre la reazione della scorta che è quella che poi ci ha posto tanti tanti dubbi ecco nell'immagine che stiamo vedendo si vedono dei momenti in cui le armi si inceppano e si perde addirittura un caricatore perciò non possiamo dire che c'erano solo degli improvvisatori all'interno ma c'erano anche altre persone che forse l'uso delle armi lo conosceranno molto bene peraltro prima che lo dicesse lei al 334 92 29 505 Marco da Verona chiede proprio all'esperto a pari di Minervini come è possibile che Aldomoro sia rimasto illeso in quella pioggia di fuoco quindi vede questo è un dubbio che ancora oggi no comunque colpisce l'immaginario collettivo è possibile sì infatti l'azione di portare via l'obiettivo deve essere un'azione molto importante un'azione chirurgica ecco per quale motivo io dico sempre ma è strano che uno che si perde un caricatore non riesce nemmeno poi non faccia non spari addosso alla persona sbagliata è certo infatti prima che lo dicesse lei mi ero appuntato questo aspetto rosate di tiro perfette altre assurde sventagliate lo ricordava lei verso le finestre è possibile Minervini che ovviamente qui siamo nel campo delle ipotesi perché lei anche lo sottolinea nella stessa video inchiesta di Gianluca Cicinelli a proposito del collocare le persone sul lato destro cioè lei dice qualcuno sul lato destro c'era è temporalmente difficile collocarli può esserci stata una situazione tipo intervento di un super killer di un agente speciale che ha fatto il lavoro principale poi è stato tolto moro dall'auto e le brigate rosse hanno cominciato a sparare diciamo per firmare quella strage questo un po' si evince dalle conclusioni bisogna dire che il balistico non può dare il nome del super killer o mettere insieme i dati non nel compito del balistico il balistico può dire come è andata può ricostruire la scena del crimine balistico ma non può dire chi ha compiuto la scena se non ha degli indizi importanti diciamo che ci sono alcuni punti che proprio con il dottor Cicinelli molte volte siamo stati ore e giorni a cercare di capire abbiamo un momento in cui che credo sia fondamentale l'agente Iozzino reagisce all'attacco l'agente Iozzino reagisce all'attacco come da manuale infatti scende si mette a protezione del proprio corpo nella parte più robusta della macchina e spara spara in un angolo di tiro ben preciso perché a destra della sua posizione aveva il montante dell'auto mentre nell'angolo che va dal montante dell'auto verso sinistra aveva tutta un'aria aperta aveva e questa cosa è importantissima anche perché risulta dagli atti Cicinelli mi può dare su questo una cosa importante risulta che uno dei brigatisti viene ferito vero dottor Cicinelli? Sì viene trovato del sangue nelle foglie utilizzate per la fuga sia del sangue a sanguinamento diretto cioè della persona ferita che è molto più preciso nell'utilizzo della terminologia scientifica e sia invece del sangue non della persona da cui diciamo dal cui corpo proviene questo sangue quindi è evidente queste due macchie sono sangue diretto come diceva giustamente Gianluca che è il momento in cui il ferito viene posto nella macchina perciò non abbiamo diciamo il sangue diretto della persona ferita e l'altro invece è sangue da transfert cioè io ho aiutato una persona mi sono sporcato di sangue e tocco qualche altro per i due momenti che diceva Cicinelli l'altra cosa importante secondo me da osservare è la posizione di Giozzino Giozzino viene rinvenuto con le gambe incrociate nella diciamo che nell'esperienza che abbiamo questo può evidenziare che cosa una rotazione del corpo di Giozzino il che significa che mentre Giozzino reagiva al fuoco qualcuno dal lato destro può essere intervenuto sull'azione di fuoco perché il compito in questo caso qui è di supporto cioè qualcuno deve supportare chi sta sparando poi non dimentichiamo che in quell'area lì viene viene riportato che uno degli assalitori proprio l'ultimo ecco questa è questa è questa è proprio la dinamica che ci sta raccontando esatto questa è la dinamica che abbiamo fatto con Cicinelli perché è la parte clou perché Giozzino spara perciò spara e c'è qualcuno che viene e viene ferito fra l'altro proprio in quell'area lì si trovano dei baffi anche quella la storia dei baffi è interessante perché i baffi se noi andiamo a vedere quelli che hanno partecipato tutti hanno i baffi perciò i baffi finti si mettono a chi non aveva qualcuno aveva i baffi finti esatto perché portare i baffi finti perché nell'indicazione anche dei testimoni cosa abbiamo abbiamo quelli lì che dicono uno con i baffi ma tutti avevano i baffi perciò chi era presente uno senza i baffi sarebbe stato un indizio importante giusta osservazione ecco per quale motivo sicuramente quei baffi erano collocati su qualcuno del gruppo che non si era fatto crescere i baffi poi un'altra cosa importante credo in quella ricostruzione il gruppo perché in quel momento lì chi è nella parte alta del cancelletto ha una cosa fondamentale dice che si inceppa l'arma e perciò se si inceppa l'arma qualche d'uno deve prendere il suo posto perché altrimenti l'azione non può essere portata a termine e chi viene e questo è il momento in cui ancora abbiamo dei punti oscuri di questa di questa vicenda appoggio che sono quelli del cancelletto alto che fanno la sicurezza cioè fanno in modo che se che una macchina che viene diciamo dalla parte alta non entrasse nel dispositivo ecco per quale motivo si mette il cancelletto alto e lì c'erano due persone due persone di cui una sappiamo benissimo che arma aveva perciò poi è esclusa mentre l'altra non sappiamo ancora in questo momento chi che arma possedesse al momento dell'evento Gianluca Cicinelli per integrare quello che ci ha detto fino a questo momento Paride Minervini visto che appunto poi avete anche lavorato insieme per la video inchiesta le animazioni che abbiamo visto cos'altro aggiungere ci sono anche tanti altri lati oscuri a proposito del lato destro il mistero dei bossoli 765 sul marciapiede destro di Viafani per esempio beh su questo questo appunto è forse l'aspetto più interessante perché Minervini giustamente è prudente perché è un professionista che non è un cialtrone che ama il titolo a otto colonne per poi essere magari smentito il giorno dopo ma tanto non se lo ricorda nessuno ti avevo detto che sarei stato polemico insomma verso le ricostruzioni che in questi giorni poi ho letto sui giornali poi ci torniamo magari sul finale perché a confermare le parole di Minervini c'è la questione dell'altro agente e cioè appunto il povero Zizi del quale fino a questo lavoro nessuno ha mai parlato su Iozzino c'è anche un libro su questo aspetto diciamo dell'essere stato colpito da destra ma su Zizi non esiste nulla al momento tranne una ricostruzione che ho fatto in conseguenza delle prove fatte poi al poligono con Minervini perché va detto appunto a testimonianza poi della serietà di un professionista è il fatto che pari di Minervini le cose che sta dicendo adesso le ha sperimentate tutte quante al poligono proprio per capire se tra le affermazioni documentali anche quelle che magari la memoria può mandare un po' come dire o qualche errore ci fossero delle incongruenze e ce ne sono tante e tra queste poi dicevo ho sviluppato la questione che riguarda appunto Zizi Zizi capo scorta al suo primo giorno di scorta oltretutto arrivato due settimane prima soltanto da Parma gli viene comunicato la mattina alla persona che doveva fare il capo scorta viene comunicato la mattina stessa che sarebbe andato in ferie e a Zizi viene comunicato la mattina stessa che sarebbe stato il capo scorta di morte e Zizi viene ritrovato all'interno della macchina ma noi in questa insomma triste dobbiamo purtroppo appunto parlare sempre di un aspetto tragico ecco che penso ancora oggi scuota i familiari delle vittime ma Zizi ha tre colpi sulla schiena tutti quanti con un andamento basso o alto inclinazione intorno ai 30 gradi che entrano dalla schiena bassa ed escono dall'addome più alto quindi Zizi viene colpito alle spalle questo significa che con molta probabilità Minervini è prudente dice sì ci sono quattro bossoli di calibro 7,65 giustamente avvisa non possiamo dire con certezza quando sono stati sparati quindi sappiamo con certezza che si è sparato da destra e abbiamo il problema di collocare nel momento in cui si collocano questi spari ecco siccome Zizi viene colpito da dietro e siccome non ci sono eh fuori nel sedile e nel sedile posteriore eh e va detto anche che viene scambiato nella perizia di polizia non so se per volontà incapacità o altro viene scambiato il sedile anteriore di Zizi con il sedile posteriore quindi non sappiamo eh dove è stato in quale momento Zizi viene colpito ma senz'altro all'esterno della macchina quindi anche Zizi è sceso come iozzino eh ed è riuscito in qualche modo a probabilmente a rientrare in macchina perché poi troviamo staccata la eh il microfono dell'autoradio e perché probabilmente è sporco di sangue perché probabilmente ha tentato comunque eh di essere eh di mettersi in contatto con la centrale morirà alle 12 intorno alle 12 e 30 quindi qualche qualche ora dopo ecco eh questo è un altro aspetto che ci fa pensare alla eh alla persona o a più persone a destra torniamo dal consulente balistico Paride Minervini dicevo lei in base ai suoi studi è arrivato a dire che qualcuno sul lato destro di Via Fani ha agito c'era sicuramente è difficile però collocarlo temporalmente ecco alla luce di tutte le perizie che sono state fatte in questi 44 anni l'ultima è del 2015 le chiedo cosa bisognerebbe fare oggi per ricostruire la scena del crimine con nuove perizie per cercare di avvicinarsi il più possibile magari alla verità cioè le chiedo le nuove tecnologie in termini di eh perizie balistiche possono migliorare le perizie precedenti oppure quella scena del crimine così inquinata fin da subito rende tutto questo impossibile credo che ci siano dei problemi con paride eh Minervini allora restiamo su Gianluca Cicinelli almeno no è tornato eccolo eccolo abbiamo recuperato prego dottor Minervini l'ha sentita la domanda eh l'ho finito la domanda mi sono perso la domanda no ecco allora sintetizzo si possono fare nuove perizie con le nuove tecnologie perizie che vadano più vicine alla verità di quello che è accaduto in via Fani oppure quella scena del crimine così tanto inquinata ha comunque inficiato tutte le perizie fatte fino ad oggi ed è difficile eh riuscire a capire come andarono le cose si può fare qualcosa si possono fare noi l'abbiamo dimostrato anche in altri casi che le nuove tecnologie eh c'è l'altro proprio una eh un processo fatto l'altra settimana abbiamo dimostrato che le nuove tecnologie portano a una lettura differente eh dei reperti i reperti possono parlare tranquillamente però bisogna poi bisogna analizzarli bisogna analizzarli e bisogna eh mettere in un contesto molto importante che è è è la scena del crimine eh ecco per quale motivo il mio laboratorio è un laboratorio che eh 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 ricrea e sperimenta eh tutto in scala uno uno a uno ecco quindi in questo modo andrebbero rifatte si potrebbe avere sì un risultato e con le stesse armi ricordiamoci che eh uno degli studi più importanti che abbiamo fatto proprio su questo caso è eh come sbossolano le armi ecco l'espulsione dei proiettili l'espulsione dei bossoli diciamo dei bossoli sì esatto diciamo che il bossolo è quello che ci permette la rosata del bossolo è quello che ci permette di inserire l'uomo che ha usato quell'arma all'interno della scena del crimine però bisogna vederlo sia singolarmente che a livello di tutta la scena del crimine ecco per quale motivo noi eh molte volte eh ricreiamo tutto facendo riportare le macchine facendo riportare eh le armi e e riposizionando eh topograficamente anche i reperti sul terreno ecco visto che siamo in chiusura anche di questo capitolo resto su pari dei minervini che poi dobbiamo salutare mentre Gianluca Cicinelli rimane collegato ne parlate nella video inchiesta di Cicinelli coperti a destra dell'ipotesi che qualcuno possa aver sparato utilizzando un revolver che quindi non lascia eh bossoli può esserci stato uno che magari ha sparato un revolver è possibile anche questo ci può essere stato perché eh bisogna a quel punto di fare che cosa rimettere insieme tutti i reperti e fare una cernita di che cosa può aver sparato quando io effetto gli esami di balistica molte volte i miei allievi faccio dei tranelli cioè gli altero la scena del crimine apposta proprio perché per esempio esiste una pistola che spara le munizioni di un revolver ed esiste un revolver che spara le munizioni di una pistola ecco per quale motivo lo faccio per mettere in difficoltà ma per insegnare loro a che a non fermarsi ad andare avanti andare oltre sperimentare e avere ecco le nuove tecnologie ci permettono di scoprire questo mentre le vecchie tecnologie rimanevano un pochino più eh più diciamo lontano da quella che è la verità e questo anche per capire perché 93 colpi si è detto ma sembrano sembrano siano stati sparati molti di più ce lo ha già detto le stavo per chiedere proprio questo esistono delle armi che di fatto sparano proiettili di calibro e tipo diverso da quello dell'arma stessa esistevano già l'epoca ecco diverso da quello dell'arma stessa no il calibro deve essere lo stesso per confondere le idee diciamo si può si può fare in modo da entrare in inganno il balistico quello si può fare quello che lei fa agli allievi lo possono fare anche gli assassini diciamo sono un po' cattivello su questo per mischiare le carte e confondere le idee è un input per spronargli ad andare avanti dai certo chiaro mi dici anche tornando allo storico che abbiamo sentito prima Gianluca Falanga che ha parlato delle analogie tra via Fani lo vediamo via Mario Fani e anche quella che è stata l'azione terroristica della RAF nel settembre del 77 quindi pochi mesi prima di quel marzo del 78 per rapire a Martin Schleyer che era il presidente della confindustria tedesca perché c'è un riferimento a quello che ha detto la Stasi la Stasi ricordo nella Germania Est era il ministero per la sicurezza di Stato molto informata su via Fani c'è un documento della Stasi che parla di almeno 40 persone presenti in via Fani quindi molte molte di più di quelle che si è detto ecco lei da esperto balistico per chiudere ci può dire se un'azione come quella con tutti i colpi sparati le armi usate e anche il coordinamento possa aver visto all'opera molte più persone di quelle che ci sono state dette fino ad oggi credo che ci siano problemi di nuovo con il balistico io lo vedevo che sembrava un po' frizzata dall'immagine e quindi vediamo se riusciamo a recuperarlo anche per salutarlo Gianluca intanto ho preso spunto dalla tua video inchiesta non è ricordare ricordando anche ricordiamo Falanga uno che conosce bene guarda diciamo che appunto per evitare di fare come insomma fanno molti che cercano la cosa sensazionalistica intanto noi non diciamo assolutamente che c'è uno della RAF via Fani devo dire anche che i contatti erano già in corso contatti tra le BR e la RAF ma si se ne parlava no? c'erano questi contatti tra i terroristi dell'epoca sono successivi pronologicamente successivi diventano più intensi dopo il rapimento di Moro è tornato se è tornato Minervini è tornato è tornato Minervini però non so scusate ma vi ho perso un attimino però ci ha perso quindi non ha sentito quello che le ho chiesto in riferimento a quanto detto da uno storico Falanga Gianluca Falanga che ha intervistato Cicinelli per la video inchiesta lo avrà visto poi si è visto tutto il DVD questo è Gianluca Falanga riportando dei documenti della Stasi che era il Ministero per la Sicurezza di Stato in Germania Est secondo la Stasi in via Fani aggirano almeno 40 persone se non di più quindi molte molte di più di quelli che in realtà hanno detto che hanno agito le Brigate Rosse lei da esperto balistico un'azione del genere c'è bisogno di tanta gente di 40 persone oppure è giusta la versione che hanno dato le BR no io concordo con Falanga perché i numeri sono alti non sono i 4 5 6 persone che noi diciamo identifichiamo nel gruppo di fuoco esiste tutta una parte logistica legata per esempio al portare via l'onorevole esiste tutta una parte logistica nel muovere le macchine e certo credo si sia nuovamente interrotto il collegamento con Paride Minervini non siamo fortunati caro Gianluca questa sera oppure siamo sabotati da qualcuno che non vuole far emergere la verità sul caso Moro ovviamente è vero che adesso approfittiamo di questi due minuti soltanto per dire che è vero che provoca molto più fastidio io ho avuto come tu hai ricordato inizio trasmissione perché sentivo anche se non ero collegato appunto da sempre ci sono due partiti nella vicenda Moro cioè di chi dice hanno fatto tutto le Brigade Rosse è quello ma la realtà è sempre più ibrida non è mai appunto bianca e nera come ci piace e come ci piacerete e quindi la verità è questa io non so se fossero 40 sta di fatto che poi c'è anche un momento in cui dimostriamo durante la video inchiesta che per esempio una cosa curiosa è che in una strada molto trafficata magari noi che siamo romani la conosciamo ma che era già trafficata anche in quegli anni non ci sono macchine dinanzi al par Olivetti e quindi anche questo è strano perché quella strada era sempre piena di macchine per cui possiamo ipotizzare per esempio che due o tre macchine siano state portate via al momento poco prima della strage per permettere ai brigadisti di uscire da dietro le fioriere almeno ai brigadisti ufficiali diciamo così ai quattro che hanno sparato per loro stessa missione e avere la strada libera perché poi ecco nel fuoco a ventaglio diciamo così anche una persona che non sa sparare bene comunque comincia apre il fuoco e sta tutto sommato a un metro un metro e mezzo insomma da avversagli immobili che non sanno che stanno per essere attaccati quindi adesso quindi non so quaranta ma senz'altro più dei diciamo di quelli detti da Morucci va detto anche però che lo stesso Franceschini il brigadista uno dei fondatori delle Brigade Rosse fece notare che per il rapimento di Sossi avevano utilizzato un numero di persone già maggiore di quello del rapimento di Moro e quindi gli stessi ipotizza che pur nel modus operandi delle Brigade Rosse pur in una città diversa come Genova da Roma sarebbero accorsi più persone non sappiamo se quaranta forse sono tante sicuramente sono più sono state dette sono in contatto con la regia in presa diretta perché almeno per salutarlo pari dei Minervini l'abbiamo recuperata eccolo la vediamo aveva comunque risposto e poi Cicinelli in qualche modo le ha fatto eco dicendo sì non erano forse non saranno state quaranta ma molte di più di quelle che si sono dette no niente sicuramente sicuramente come ecco scusate se mi sono interrotto ma non sono nel mio studio sono in un'area dove è proprio coperta lo so purtroppo succede ecco può succedere ecco dicevo sì il nucleo che noi vediamo nella parte che viene raccontata è solo una minima parte non può esistere un'azione così importante così delicata così diciamo quasi diventa quasi un orologio svizzero dal punto di vista di tempi se non c'è un appoggio logistico importante non ci dimentichiamo che come il buon Gianluca ha dimostrato già qualche giorno prima il giorno prima ci sono state le prove per quella che si chiama acquisizione dell'obiettivo e tutto il resto e questo significa che dietro c'è un numero importante che ha fatto l'appoggio a tutta la sezione stanno arrivando io distratto dai collegamenti che questa sera ci stanno facendo sudare sono arrivati altri messaggi però sono di tipo diverso e quindi cioè nel senso riguardano altri temi non questioni balistiche quindi lo possiamo salutare pari dei Minervini anche se però questo messaggio di Andrea voglio leggerlo vorrei ricordare gli impatti che abbiamo evidenziato senza esito sulla targa della Mini Verde e sulla sommità del sedile di Leonardi un saluto all'amico Gianluca Cicinelli al Maggiore Minervini Andrea Guidi si firma quindi lo salutiamo questo ci sta seguendo gli altri messaggi poi magari li leggeremo dopo intanto grazie al consulente balistico pari dei Minervini abbiamo avuto qualche problema però i suoi concetti sono stati chiari e utili quindi grazie grazie ai prossimi appuntamenti arrivederci grazie grazie ancora Gianluca Cicinelli resta collegato tra poco faremo un altro esperimento nel senso che ci collegheremo con un secondo ospite sperando vada meglio il collegamento rispetto al Maggiore Minervini c'è un messaggio interessante da parte di Massimo da Torino quindi lo leggeremo dopo Massimo resta sintonizzato tra poco ti rispondiamo siamo andati lunghissimi chiedo scusa a Emanuele Forcina e do la linea proprio a lui torniamo tra poco e ben ritrovati da Fabio Camillacci terzo capitolo di Crimine e Criminologia di oggi come abbiamo già ricordato nei precedenti due capitoli torniamo a parlare dei tanti tanti misteri legati al caso Moro 44 anni dopo 44 anni non solo dopo la strage di Via Fani del 16 marzo del 78 ma soprattutto i 44 anni adesso del 9 maggio a proposito di quando fu ritrovato il corpo di Aldo Moro nella Reno 4 Rossa in via Caetani abbiamo già sottolineato quel posto simbolico a metà tra Via delle Botteghe Oscure e Piazza del Gesù la sede del PC e la sede della democrazia cristiana all'epoca si è aggiunto un altro gradito ospite al nostro dibattito ci aiuterà a conoscere altri lati oscuri legati alla storia del caso Moro infatti il riferimento è a Franco Martinez del collettivo 16 di marzo buonasera buonasera Martina mi sentite? si si la sentiamo benissimo lei ci sente? beh lei la sente un po' piano a differenza degli altri ospiti proverò ad aumentare il tono della voce così magari arriva meglio intanto bene un saluto a tutti a Gianluca e a lei e a chi ci ascolta e soprattutto chi ci ascolta e tanti ci hanno scritto e hanno tante curiosità tra poco leggero un messaggio di Massimo da Torino che riguarda un altro lato oscuro sul 16 marzo proprio sulla strage di Viafani intanto le chiedo cosa fa come nasce e perché nasce il collettivo 16 di marzo beh perché nasce nasce per caso nel senso che mi sono ritrovato con altri con altre persone interessate al caso sul sito di Castronuovo vuoto a perdere e dove appunto c'era un blog su cui appunto si poteva cioè c'era un blog c'era un forum scusate dove si poteva appunto discutere delle varie cose quindi insomma poi alla fine eravamo sempre io e altri quattro a discutere e a un certo punto abbiamo pensato di come dire di renderci autonomi e di discutere tra di noi e poi quindi insomma abbiamo creato una sorta di diciamo un giro di mail per cui insomma ci sentivamo e poi insomma pian piano c'è stata l'idea insomma di avere l'opportunità di di trasmettere agli altri alcune delle nostre riflessioni ecco questo dunque il collettivo 16 di marzo e voi ne sapete molto della di questa storia incredibile uno dei misteri forse il mistero d'Italia più intricato allora vediamo se Franco Martinez eh sicuramente dirà la sua se ha qualcosa da eh chiarire a Massimo da Torino che chiede vorrei conoscere l'opinione dei presenti sulla circostanza che i 4 BR del gruppo di fuoco tutti posti a sinistra rispetto alle auto colpite fossero vestiti da piloti all'Italia se ci fossero stati solo loro in via Fani che necessità ci sarebbe stata del travestimento è interessante comunque come domanda eh tanto grazie a Massimo da Torino sicuramente ehm Dio mio questa domanda difficilotta che necessità indubbiamente forse questa necessità non ci sarebbe stata appunto se ci fossero stati solo loro io posso solo dire quella che è una mia convinzione personale che non è cioè non sono in grado di supportare ma io penso che il via all'azione sia stato dato perché insomma dobbiamo pure immaginare no? che a un certo punto c'è un gruppo ci deve essere qualcuno che in qualche modo dà il via all'azione è vero è vero che si era detto che doveva essere diciamo nel momento in cui l'auto di Moro fosse stata fermata da dall'auto che la precedeva insomma dalla 128 targata CD però cioè chi determina il momento esatto in cui si può ritenere che quell'auto è ferma perché è chiaro che sono è una stima comunque soggettiva quindi io credo e questo non è mai stato chiesto nei vari processi che doveva decidere quando si poteva ritenere l'auto di Moro ferma e quindi dare inizio ad azione io ho sempre pensato che ripeto questa è una mia convinzione non è che posso dimostrarla che appunto fosse compito della persona che stava a destra e che di conseguenza apriva il fuoco rapidamente e poi si defilava successivamente iniziava la pioggia di fuoco di coloro che stavano a sinistra ora cioè con questo non è che voglio eludere la domanda presumo che se le cose fossero andate siano andate come io penso appunto occorreva che i quattro del lato sinistro dovessero distinguersi visivamente anche dagli altri ecco quindi forse lei è un po' d'accordo con me perché io prima ho messo sul tavolo un'ipotesi alla luce anche dell'inchiesta di Gianluca Cicinelli per il fatto che Aldo Moro è uscito il leso da quella pioggia di fuoco e allora ho detto magari il lavoro sporco nel senso uccidere i cinque uomini della scorta ad ucciderli sono stati delle persone sono state delle persone particolarmente addestrate in questo senso quasi agenti speciali che hanno ucciso i cinque uomini senza sparare nel mucchio poi hanno prelevato Aldo Moro lo hanno portato via e gli altri che hanno iniziato a sparare hanno messo la firma sulla strage le Brigate Rosse sparando così come veniva visto che non erano preparati e quindi abbiamo parlato anche con il periodo balistico pari dei binervini di rosate perfette di fuoco rosate assurde ecco quindi credo anche lei la pensa un po' come me mi pare di capire su come possono essere andate le cose nel caso specifico penso che ripeto è una mia mio convincimento e niente di più però che chi stava a destra in un certo senso era quello che aveva che poteva utilizzare la massima sorpresa e quindi neutralizzare coloro che stavano a destra in particolare Leonardo che era l'uomo che potevano considerare il più pericoloso dopodiché è chiaro che nel momento in cui si spara da destra l'attenzione di tutti si rivolge verso destra e quindi entra in campo una seconda sorpresa vale a dire quelli che stanno a sinistra che iniziano a sparare e completano l'opera ecco io questo tipo di di idea eh sì questa avevo lanciato questa mia teoria proprio alla luce di tanti approfondimenti fatti in tutti questi anni di tante analisi e da ultime proprio quelle di Gianluca Cicinelli vuoi rispondere anche tu a Massimo da Torino sulla che poi si lega anche al fatto dei baffi finti se vogliamo Gianluca quello del travestimento no sono d'accordo con la tesi di Franco Martinez perché appunto il il problema è questo qua di tu hai costruito questa trasmissione diciamo in un senso logico no hai messo prima tutti sulla scena poi hai spiegato cosa è accaduto sul lato sinistro poi hai immesso l'elemento che è quello appunto di coperti a destra e cioè della presenza di bossoli e di azioni che appunto con discreta certezza ci fanno dire appunto che si è sparato da destra Minervini ha precisato bisogna capire in quale momento si è sparato da destra io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Franco sulla persona che dà inizio alla sparatoria da destra che deve essere precisa non può sbagliare e quindi questo è uno degli elementi per cui sono travestiti da avieri e il motivo per cui è probabile che sia stato uno degli avieri quindi a perdere i baffi che poi vengono ritrovati probabilmente a causa di un colpo e del sangue che poi viene ritrovato appunto abbiamo detto nelle macchine utilizzate per la fuga ecco oltre questo probabilmente diciamo che un punto che forse è implicito ma non è stato detto è che questo lo aggiungo io appunto non è non è l'opinione di Franco Martinez che ha espresso la sua relativa appunto a una persona che dà inizio a destra e spara e fa un passo indietro ma la questione Zizi fa pensare mi fa pensare che ci fosse una seconda persona a destra qual è il problema se c'erano delle persone a destra appostate che naturalmente diciamo si è incontrato qualcuno che non conosceva gli altri e quindi la necessità di non colpire le persone dello stesso comando ha fatto sì che ci fosse questa mimetizzazione con un'unica divisa appunto uguale per tutti perché chiaramente il fuoco cioè se si spara da una parte si rischia di prendere non solo il proprio obiettivo ma anche chi sta oltre e quindi fuoco non incrociato è chiaro perché in quel caso ecco chiedo invece a Franco Martinez se nel vostro studio collettivo 16 di marzo noi stiamo parlando molto della strage di Via Fani però ricordiamo il 9 maggio del 78 il ritrovamento di Aldomoro nell'Arena 4 rossa in via Caetani avete trovato qualcosa invece di interessante legato al 9 maggio del 78 perché in tanti si sono chiesti come hanno potuto i brigatisti attraversare Roma con Aldomoro nell'Arena 4 piazzarlo in una strada come quella al centro di Roma tra via delle botteghe oscure piazza del Gesù Largo Argentina insomma chi conosce Roma sa che non è così facile fare tutto questo con un cadavere è così pesante di cadavere così importante perché portavano Aldomoro ci sono delle curiosità qualcosa che avete scoperto in merito si ci sono però volevo un attimo tornare indietro su quello che avete detto prima in relazione a come dire gli spari che sono finiti sopra cioè quando parlavo appunto pari dei minervini degli spari che sono finiti diciamo contro un fabbricato insomma all'altezza del primo piano secondo me una possibile spiegazione naturalmente è una possibile nient'altro è che come sappiamo appunto l'agente Iozzino ha reagito sparando due colpi quindi quando parte una raffica voglio dire non è che la si può arrestare da quello che ho capito istantaneamente quindi io ho sempre pensato rimetto possibile che chi stava sparando a un certo punto si è visto oggetto di fuoco di colpi e ha perso il controllo e in quel momento forse diciamo il mitra gli si è alzato e ha finito con lo sparare in alto perché diciamo anche volendo anche diciamo avendo levato il dito al grilletto la raffica ha continuato per qualche frazione secondo naturalmente lì mi pare che in un secondo non so quanti colpi vengano sparati da da quel da quell'arma sulle cose diciamo strane del del ritrovamento diciamo del 9 maggio diciamo prego del 9 maggio diciamo sì dico sulle cose strane del 9 maggio beh una cosa diciamo che a me e a noi ci ha sempre colpito è il fatto che in realtà il l'allora commissario Federico Vito praticamente diciamo assiste all'apertura della della Renault 4 e vede che c'è un borsello sopra sopra la coperta che ricopriva il corpo di Moro e praticamente se lo prende e se lo porta via poi lo aprirà in commissariato e estenderà un verbal del contenuto di questo borsello nel borsello c'erano effetti personali di Moro che poi in realtà non era esattamente un borsello era il contenitore dell'apparecchio della pressione viene definito borsello nel verbal era il contenitore dell'apparecchio della pressione dentro cui i brigatisti avevano messo alcuni suoi effetti personali tra cui orologi eccetera eccetera degli assegni beh insomma voglio dire trovo strano che Costui se lo prende se lo porta via dopo arriva la polizia scientifica che infatti non fa cenno di questo borsello perché non c'è quando fa la verifica insomma è in pratica quindi di quanto rinvenuto dentro l'R4 noi abbiamo due verbali separati quello di pandiscia della polizia scientifica e quello separato del borsello del suo contenuto che verrà fatto poi nella sera del 9 maggio questo ci è sempre sembrata una procedura un po' insolita o quanto meno strana eh ma diciamo queste situazioni si ripetono nel caso Moro c'è una domanda che abbiamo selezionato Roberto non ci scrive da dove ci sta seguendo ricordo sempre di scrivere anche la località risulta vero che gli M12 magari la giro questa Gianluca Cicinelli risulta vero che gli M12 in dotazione alla scorta erano riposti nei bagagliai delle auto ed erano con scarsa manutenzione a proposito della scorta no rivolgila a Martinez che è più preciso su queste cose a meno risulta che ci fossero a meno risulta che ci fossero altri M12 e tantomeno nel portabagagli portabagagli delle auto dell'Alfetta delle auto dell'Alfetta eh Martinez su questo sì no questa è una guardi nel caso Moro si sono create tante leggende metropolitane io in particolare ho a cuore quella dei fazzoletti di carta che avrebbero tamponato le ferite di Moro mentre nella nelle perizie si parla di fazzoletti e quindi specie data all'epoca deve intendersi fazzoletti di tela e c'è nonostante c'è qualcuno che addirittura ha pure detto qual era la marca di questi fazzoletti di carta e per giunta il ris è caduto in errore recentemente ma non voglio divagare tornando alla questione diciamo questa è appunto una leggenda metropolitana che è nata da una cosa detta in un processo da Leonora Moro che dice di aver visto questo mitra nel portabagagli della 130 però se noi dobbiamo attenerci a quelli che sono gli atti ufficiali vale a dire i verbali le perizie eccetera non c'era assolutamente nulla nella 130 non c'era nel portabagagli nulla dicono non c'era nessun'arma né viceversa c'era alcuna arma nel portabagagli dell'alfetta per quanto riguarda il mitra il mitra diciamo un mitra era in dotazione a Iozzino e mi scusi era in dotazione a Zizi che di fatto era quel giorno il caposcorta che però non fu mai ritrovato però non fu mai ritrovato né fu ritrovato come dire nell'armadietto dove doveva essere custodito di conseguenza si è stato dato per disperso e si presume appunto che qualcuno dei brigadisti l'abbia preso al volo se lo sia portato via cioè quindi non ci sono assolutamente dei mitra ritrovati da nessuna parte appartenenti alla polizia o ai carabinieri ecco per chiudere con Franco Martinez queste tante stranezze questi tanti errori soprattutto che avete portato alla luce come collettivo il 16 di marzo nella video inchiesta fate riferimento al foro sul parabrezza della Fiat 130 di Aldo Moro in un primo momento si parlò di foro d'entrata causato dal proiettile e poi invece si appurò che era un foro d'uscita ecco questo è un aspetto che voi avete evidenziato poi ricordiamo dieci bossoli non hanno una collocazione precisa sulla scena del crimine ci sono due bossoli di una Smith & Wesson sono state fatte tante perizie in merito all'agguato di Via Fani ho detto l'ultima è del 2015 ma dopo 44 anni siamo qui a parlare di tanti troppi lati oscuri colpa di quella scena del crimine inquinata fin da subito di tanti errori lavori fatti male superficialità magari in mezzo a tutto questo depistaggi e altro cosa secondo lei secondo voi direi del collettivo 16 di marzo mi metto un po' in imbarazzo diciamo che però è così no? è questo questa le può anche non rispondere però questo è stato di fatto ma diciamo io cito spesso un fatto che i periti balistici dell'epoca cioè vale a dire del 78 e diciamo emisero una prima relazione provvisoria a distanza di un mese dall'incarico e in questa elencarono adesso non ricordo il numero esatto ma circa 73 bossoli cioè 20 in meno di quelli che effettivamente erano nella relazione finale e dissero una frase sibillina che ricollegando altri plichi i bossoli erano in realtà 93 quindi questo significa che di fatto non si capisce adesso per quale motivo ebbero ebbero a disposizione 20 20 all'incirca bossoli in meno per un mese quindi iniziano a lavorare adesso perché perché gli furono in realtà cioè quella frase non dice nulla ricollegando altri plichi perché forse probabilmente vennero loro consegnati con un mese e più di ritardo questa mi sembra la spiegazione più plausibile lei nella video inchiesta parla anche nella video inchiesta di Cicinelli parla di una repertazione dei bossoli fatta male con l'imbustamento fatto in due momenti differenti è quello che ci sta dicendo o questa è un'altra cosa no 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 questa è un'altra cosa ripeto questa è un'altra cosa che fa riflettere sì 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 ripeto loro in una perizia provvisoria dissero che i bossoli repertati in viafani erano circa 73 e poi giustificarono quando fece la perizia definitiva il numero nuovo di 93 col fatto che avevano successivamente ricollegato altri plichi io queste sono le parole testuali ognuno le interpreti io sinceramente non so che significato dargli certamente quindi ripeto hanno avuto a disposizione questi bossoli diciamo 20 bossoli in meno per 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 un mese più senza dimenticare poi che in realtà potrebbero essere stati sparati molti più colpi questo l'abbiamo detto certo quello viene dato più di 100 è stato detto da molti cioè 93 sono quelli repertati quelli repertati poi appunto possono essere finiti nei tombini qualche passante ha preso un souvenir molte armi non lasciano bossoli abbiamo detto quindi oppure anche certo ci possono essere state le armi che oltre le sei ufficializzate che fossero armi a tamburo che quindi non espellono i bossoli certamente siamo siamo in chiusura anche di questo capitolo prima di salutare franco martinez volevo sentire se aveva da chiusare gianluca cicinelli su questo capitolo interessante grazie al collettivo 16 di marzo un minuto per chiudere gianluca poi resti comunque collegato soltanto per specificare che quel messaggio prima che ha letto di prima che ha letto affirma andrea guidi appunto andrea guidi fa parte del collettivo 16 di marzo e che all'indirizzo www.16dmarzo.org ecco chi volesse trovare risposta alla tua domanda cioè sulle tante stranezze appunto può trovare sia il particolare sulle targhe che citava andrea guidi di cui contaccambio il saluto e sia molte altre anomalie loro hanno fatto un lavoro direi certosino intorno a tutto ciò che non torna e devo dire con molta più serietà di chi all'interno delle istituzioni ha dovuto firmare perizie e appunto affermare cose che poi sono contraddette appunto sono targhe indirizzi sul sito su questo sito trovate molti materiali io li ho conosciuti così lo ricordiamo allora l'indirizzo grazie Gianluca grazie a voi ricorda ancora tu l'indirizzo Gianluca ricordiamolo www 16 di marzo punto org scritto però ovviamente tutto minuscolo non come lo vedete nel sottopancia di Franco Martinez perché però quella è la vera vostra dicitura no 16 maiuscolo di minuscolo e marzo anche questa no ha una simbologia questo fatto in qualche modo evidenziare proprio questo e in chiusura leggo ancora quello che ha scritto Andrea Guidi vorrei ricordare gli impatti che abbiamo evidenziato abbiamo evidenziato quindi come collettivo 16 di marzo senza esito sulla targa della Mini Verde e sulla sommità del sedile del maresciallo Leonardi ecco grazie ancora per questo messaggio grazie a Franco Martinez e alle prossime occasioni e ai prossimi appuntamenti quando parleremo grazie grazie a voi da tutti noi dal 16 di marzo naturalmente salutiamo tutti gli amici del collettivo 16 di marzo Gianluca Cicinelli rimane ancora collegato tra poco anche la parte legata all'aspetto psicoterapeuta ma a 360 gradi cioè il caso Moro tutta la vicenda da via Fani in poi che impatto ha avuto a livello emozionale sull'opinione pubblica italiana ne parliamo tra poco con la dottoressa Barbara Fabbroni poi le conclusioni con Gianluca Cicinelli sui misteri del caso Moro su coperti a destra restate con noi e ben ritrovati da Fabio Camillacci in quello che è il quarto capitolo di crimini e criminologia di oggi continuiamo a parlare del caso Moro i misteri del caso Moro 44 anni dopo coperti a destra perché è il titolo della video inchiesta di Gianluca Cicinelli che abbiamo sempre in collegamento ma adesso come avevo anticipato si è aggiunta la nostra una delle nostre compagne di viaggio per quanto riguarda crimine e criminologia la dottoressa Barbara Fabbroni buonasera e bentornata buonasera Fabio buonasera a tutti i telespettatori psicoterapeuta e giornalista quindi in questa doppia veste oggi va a commentarci la vicenda Moro il caso Moro quei 55 giorni e allora la interpello oggi prima nella veste di giornalista lei che idea si è fatta di questi 44 anni che sono trascorsi anche e soprattutto dal 9 maggio del 78 oltre che dal 16 marzo quei 55 giorni e tutti quei lati oscuri che ancora oggi restano tali sono 44 anni che raccontano e narrano la storia di un'Italia in un periodo di anni di piombo ed è comunque una storia che ha soltato e tracciato quella che poi è il mondo di oggi la nostra appartenenza cioè io ricordo che noi abbiamo tra l'altro studiato io ero piccola ma comunque le notizie venivano riportate e tutto questo è stato diciamo così un fil rouge fino a oggi ancora oggi dopo 44 anni ne parliamo e ne parliamo andando a cercare a verificare ancora i lati oscuri tutto questo sta a significare quanto nell'impatto diciamo così sia individuale ma anche dell'opinione pubblica ha toccato questa vicenda e ancora tocca chi non ricorda quelle immagini cioè anche se eravamo piccoli però ancora ce le abbiamo tracciate la televisione mass media ce le hanno riportati nel corso del tempo e tutto questo traccia anche la nostra storia la nostra storia di italiani la nostra storia anche di appartenenza a una nazione che purtroppo in quegli anni è stata fortemente colpita da anni di grosso terrore che si sono fortemente incisi nella psicologia del popolo e delle masse portando chiaramente anche a vissuti profondi che ancora oggi vengono toccati da quell'esperienza se noi vediamo quelle immagini io ho visto la trasmissione ancora mi ha toccato mi ha scosso mi ha mosso delle emozioni significative perché comunque quel ricordo come dicevo seppur ero piccola però si è inciso dentro di me e ancora non mi ha lasciato e credo che non mi lascerà mai perché è la mia appartenenza a essere italiana e a quella vicenda qui intanto stiamo vedendo proprio l'ultima commemorazione ricordo del 16 marzo per la strage di Via Fani poi ricordiamo appunto era da un po' di tempo che non si poteva celebrare bene causa la pandemia questo avviene sempre dice bene rimane nella memoria di tutti io anche ero piccolo andavo peraltro a scuola proprio vicino Via Mario Fani andavo a scuola alla Balduina e ricordo quello che fu quel 16 marzo gli elicotteri che sorvolavano la zona la voce che si era sparsa subito peraltro il mio miglior amico il padre del mio miglior amico era segretario di Giovanni Galloni che era praticamente il braccio destro di Aldomoro quindi lavorava nella DC quindi immaginate come posso aver vissuto quel giorno non so se ha una curiosità qualcosa da chiedere alla dottoressa Barbara Fabbroni in questo può fare da co-conduttore Gianluca Cicinelli una curiosità psicoterapeuta diciamo sì assolutamente intanto buonasera dottoressa buonasera il quesito è molto semplice mi è venuto in mente l'uomo nero mentre lei parlava l'uomo nero delle favole quello con cui si educano i bambini a temere l'ignoto e però sapendo che si può comunque affrontare anche questa paura lei non trova che Aldo Moro sia un po' l'uomo nero della Repubblica Italiana cioè un monito messo lì diciamo questo al di là della politica per dire quali sono i confini entro cui si può determinare una politica nazionale all'interno di confini internazionali beh allora senza dubbio quello era un periodo di paura e di terrore cioè gran parte delle città italiane erano terrorizzate dall'accadere c'erano le brigate rosse erano anni assolutamente di piombo e vede all'interno della parola terrorismo cioè contiene proprio la parola terrore e questo genera sgomento nelle persone è chiaro che assistere a una vicenda come quella che è accaduta ad Aldo Moro ma come a tante altre vicende è chiaro che nelle persone arriva il terrore ma guardi senza scomodare quella vicenda basta guardare due anni fa quello che è successo nella nostra Italia nel mondo cioè la pandemia noi abbiamo avuto il mostro abbiamo avuto l'uomo nero abbiamo avuto il virus sconosciuto quello che ci ha diciamo così stimolato il terrore la paura e la precarietà è né più né meno la stessa cosa al tempo negli anni settanta e negli anni ottanta lo vivevamo con gli attacchi delle brigate rosse con quello che potevano essere i seguestri con tutto quello che c'era proprio di movimento tra il politico e il sociale l'abbiamo vissuto con la pandemia e lo stesso terrore stiamo vivendo anche a ridosso perché non ci scordiamo che c'è anche una guerra in Ucraina molto vicino a noi quindi la paura dell'uomo nero certo che c'è ma comunque è una paura che si può affrontare perché io dico sempre che la paura guardata in faccia diventa coraggio e forse proprio tutti questi insegnamenti tutte queste situazioni di paura generano nell'essere umano comunque anche una risposta una risposta che è una risposta per così dire ad affrontare quella paura e a costruire qualcosa di meglio nonostante tutto dobbiamo farcela è chiaro che situazioni di questo genere in cui vive il terrore in cui c'è il terrore c'è un grosso punto interrogativo mi alzo la mattina e non so se la sera posso tornare a casa soprattutto persone esposte come poteva essere l'onorevole Aldo Moro è chiaro che tutto questo genera una situazione di grande panico però è come un effetto domino il terrore e l'uomo nero crea questo effetto domino poi a tutto questo si somma quello che possono essere le dichiarazioni dei mass media le dichiarazioni dell'opinione pubblica è un grosso contenitore in cui poi la psicologia delle masse e l'effetto della massa quindi dell'individuo e della collettività e delle persone risponde io ho portato l'esempio della pandemia in riferimento a quello che potrebbe essere proprio addirittura l'invisibilità di un qualcosa che può essere terrorizzante e ci ha terrorizzato proprio perché è una paura incontrollabile noi non potevamo negli anni 70 80 andare a controllare quegli eventi tant'è che moltissime persone sono morte hanno subito quella violenza e sono state vittime di quella violenza un po' la stessa cosa con la pandemia la stessa cosa con le guerre e questo fa parte un po' di quella che è anche il genere umano abbiamo sempre bisogno di come dire costruire un'immagine che possa terrorizzare l'altro creare una situazione in cui l'altro e le persone sono intrappolate dalla paura però se ne può anche uscire in fondo quel periodo pesante uscito adesso è vero resta il ricordo resta comunque la conoscenza di quel periodo e la possibilità di non ripetere gli stessi errori spero di aver risposto credo di sì è molto bene come sempre d'altronde Gianluca si è soddisfatto no infatti cosa aggiungere insomma mi sembra ecco aggiungo io una cosa sull'uomo nero visto così lancio anche l'appuntamento con la galleria degli orrori che arriva tra poco un altro personaggio che ve lo raccomando l'uomo nero nell'immaginario collettivo non dico che nasce però si rafforza con la figura di Ernesto Picchioni cioè il mostro di Nerola il mostro della Salaria e questo per quanto riguarda le generazioni soprattutto eh che di persone nate durante la seconda guerra mondiale o quelle nate subito dopo la fine della seconda guerra mondiale sono cresciute con l'uomo nero chiamo l'uomo nero chiamo Picchioni il mostro di Nerola il mostro della Salaria ma la figura ovviamente è generale dell'uomo nero torniamo con Gianluca Cicinelli un attimo al memoriale Morucci perché Valerio Morucci Gianluca ammise di non aver scritto da solo il famoso memoriale delle BR memoriale smentito poi da fatti evidenti però le varie commissioni parlamentari d'inchiesta lo hanno sempre ritenuto attendibile e anche nei processi di fatto ma dunque la prima commissione d'inchiesta non era ancora dunque il memoriale Morucci viene redatto tra l'84 e l'86 più o meno e in una prima edizione senza i nomi dei brigadisti coinvolti in quella che arriverà nelle mani del presidente Cossiga con indicati i nomi dei partecipanti all'azione e appunto come tu ricordavi è lui stesso ad ammettere che a quel memoriale hanno messo meno hanno messo mano in tanti e questo già è un'altra delle anomalie ecco però quello che vorrei ci terrei a sottolineare è che io ho letto una ho tutti ovviamente tutte le testate in questi giorni hanno ricostruzioni mi ha molto colpito non è per essere sempre polemici verso le istituzioni però è stato di fatto mi ha colpito un'intervista rilasciata dall'ex presidente della commissione Moro 2 Fioroni in uno speciale di un di un settimanale in cui diceva basta con i misteri e via dicendo insomma poi sappiamo però che questa commissione ha segretato per altri per molti per qualche altro decennio delle carte già segretate in precedenza e quindi poi insomma è un po' la storia di questo paese cioè non sai mai a chi chiedere non c'è mai un'autorità che a un certo punto può dire sì facciamo vedere questo documento hanno avuto la possibilità appunto di approfondire queste domande che stai facendo te Fabio no? come mai una commissione insomma che ha lavorato molto va detto poi domande semplici domande di chi conosce il caso non benissimo ad esempio come te però conosce il caso si pone degli interrogativi ma è normale ma certo certo come il borsego di cui parlava Martino ma ce ne sono tanti all'orario delle telefonate troppi signorile che a casa per esempio l'onorevole signorile ha recentemente ribadito nel lavoro ex socialista di Paolo Cunchiarelli sì all'epoca vicepresidente vice segretario del partito socialista per la trattativa diciamo era schierato per la trattativa rispetto alla vermessa per la trattativa è stato fatto che nel lavoro di Paolo Cunchiarelli nel video fiction tratta dal lavoro di Paolo Cunchiarelli signorile ribadisce che era intorno alle 11 nello studio di Cossiga quando arriva la telefonata di ritrovamento della macchina con Moro mentre la telefonata di Valerio Morucci alle 12 e alle 12 e 15 per far ritrovare la macchina ora io non credo insomma che l'onorevole signorile sia una persona che si possa essere accusata insomma di soprattutto insomma 44 anni dopo però qualcuno con queste risposte le deve dare e allora non è possibile però l'altra cosa che ci trea dire è che siccome i brigadisti ormai quello che dovevano dire l'hanno detto sappiamo che salvo ripensamenti dovuti a pentimenti spirituali in punto di morte difficilmente da loro verranno novità e a questo punto però anche lo Stato deve rispondere di tante cose l'elemento è un elemento sembra un elemento secondario quello di cui parlava Franco Martinez quello del Borsello no? a me ha colpito molto non la sapevo questa storia sì sì non viene nominato perché non è una delle cose diciamo si lega pure alle borse sparite di Moro nella 130 se vogliamo le borse di Moro ma possiamo pensare anche alla borsa sparita a Borsellino subito dopo le lettere la borsa che viene prelevata a Borsellino subito dopo l'attentato appunto di Via D'Amelio insomma anche le lettere di Piano Senevoso no? ci sono due esatto esattamente perfetto ecco ci sono sempre due pezzi di Stato che si muovono parallelamente cioè quello che fa il verbale con il Morsello è quello che l'ha prelevato diciamo così e non ne ha tenuto conto per gli altri della polizia scientifica che stavano facendo il suo stesso lavoro e non è soltanto una concorrenza tra corti di polizia è frutto diciamo del dover rispondere a entità diverse e questa entità evidentemente qualcuno ha interesse a nascondersi e quindi evidentemente ha agito in maniera non legale occulta e aveva delle coincidenze di interessi con quelle di chi ha ucciso Aldo Moro un po' diciamo ricorda anche il caso Davide Cervia no? se vogliamo ma stesse dinamiche le dinamiche dei pezzi di Stato gli schemi sono sempre questi e non solo comprese le intimidazioni comprese le intimidazioni teniamo conto di quello che diceva la dottoressa prima quello è il meccanismo comunque perché tenere le persone sul filo della paura significa diciamo farle agire in maniera non sempre del tutto razionale strategia della tensione anche abbassare un po' il livello di pretesa della democrazia per paura che addirittura peggiori perché da quell'emergenza terrorismo ci sono state si sono susseguite soltanto emergenze in questo paese c'è stata l'emergenza di Tangentopoli c'è stata l'emergenza del terrorismo invece di di matrice internazionale islamico quello dell'Isis l'11 settembre cioè noi siamo in emergenza c'è il covid lo ricordava la dottoressa c'è la guerra insomma non riusciamo mai a trovare io le chiederei alla dottoressa come sopravvivere come fa la gente spesso ho fatto un articolo qualche giorno fa su un incremento durante il covid del 40% dell'utilizzo di depressivi insomma di ansiolitici antidepressivi ecco insomma se ci fosse non voglio dire insomma che le istituzioni no poi provocano per forza ansia e tormento ma insomma ecco la pasticca per uscire dall'emergenza sembra che questo paese non ce l'abbia ecco ora la sentiamo la dottoressa vorrei fare un raccordo perché quello che hai detto quello che stiamo dicendo è una strategia della tensione allargata no la strategia della tensione non è solo la bomba di piazza fontana la strategia della tensione c'è sempre si lega a quella che Moro chiamò la strategia dell'attenzione verso il partito comunista italiano e che poi probabilmente è stata la tomba di Aldo Moro se vogliamo quella strategia dell'attenzione perché il PC al governo non piaceva né agli Stati Uniti né tantomeno all'Unione Sovietica visto che era il partito comunista più forte più grosso dell'Occidente la dottoressa ora ci risponde invece se esiste qualche qualcosa per far fronte a quello che ha detto Gianluca Cicinelli e che ha detto lei anche certo no ma mi riallaccio all'attenzione perché è molto interessante cioè l'attenzione se io non riesco a portare attenzione a quello che faccio a un mio pensiero a un mio a qualsiasi cosa quali altri strumenti ho per poter portare quell'attenzione da parte delle persone che a me interessa che abbiano quell'attenzione è creare un clima di paura e di terrore o al tempo stesso per distogliere l'attenzione da quella situazione quindi ti creo una paura e ti distacco da quella situazione e faccio in modo che quella situazione diventi per te qualcosa di pericoloso né più né meno che è una dinamica di attacca e fuga noi di fronte a una paura che cosa facciamo ci ritiriamo e cerchiamo di proteggerci perché le persone durante il periodo della pandemia ma guardi la pandemia forse ha messo l'accento su certe situazioni perché comunque ci ha chiuso in casa ci ha messo in una situazione precaria soprattutto perché non conoscevamo che cos'era questo virus non sapevamo che cosa noi dovevamo andare a combattere ma in tutte le situazioni di forte stress anche nel periodo degli anni di piombo degli anni 70 e 80 le persone comunque si chiudevano all'interno di sé e cercavano di proteggersi e comunque proteggendosi da quella paura altro che non produceva tensione all'interno di sé quindi è normale che calano le difese immunitarie caricano la risposta anche alla situazione che noi viviamo e si costruisce all'interno della persona per così dire una risposta emozionale che può produrre o una depressione o una situazione da panico o il cosiddetto disturbo post-traumatico da stress tutto questo mette in luce il momento che stiamo vivendo quindi quell'attacco quella paura quel terrore che noi viviamo nella nostra pelle lo traduciamo a livello di un meccanismo di difesa che è quello di abbassare le nostre difese di aver bisogno di un qualche cosa che ristimoli la serotonina la noradrenalina e tutti quelli che sono gli ormoni che ci aiutano ad alzare il livello del nostro tono dell'umore per questo sono aumentati è aumentata l'assunzione degli psicofarmaci per questo le persone oggi chiedono molto di più aiuto di prima della pandemia soprattutto abbiamo varie fasce d'età che proprio richiedono questo ma io credo che se noi andiamo a fare un'analisi attenta di quella che era la psicologia del tempo all'epoca di Moro o di tutte le vicende che poi sono seguite fino alla alle torri gemelle e così via troviamo né più né meno che questa modalità di risposta dell'essere umano perché è normale noi ci confrontiamo con una paura che è più grande di noi e quella paura come la affrontiamo se non abbiamo gli strumenti se tutte le situazioni che fino a quel momento abbiamo vissuto ci tengono a terra l'unico modo che noi abbiamo è purtroppo rivolgerci a un farmaco anche perché dai mass media dalle persone che comunque dai politici non abbiamo quel supporto che ci permette di avere una speranza speranza è una parola molto usata ma soprattutto è anche mal utilizzata perché comunque l'essere umano l'individuo ha bisogno di vedere di trovare di vedere di sentire una rassicurazione di avere un'accoglienza di essere compreso di avere la traduzione dell'evento che si sta vivendo in una maniera comprensibile e anche rassicurante seppur drammatico noi siamo stati buttati esempio negli anni di piombo esempio nella pandemia in una situazione pazzesca io mi ricordo negli anni di piombo una decina di anni dopo fu rapito un mio carissimo amico figlio di un grande industriale Francesco del Tongo cioè io andavo a scuola con la sorella di Francesco quindi so che cosa abbiamo vissuto i nostri genitori erano terrorizzati e chiaramente noi che cosa facevamo ci tenevano in casa non potevamo uscire non potevamo frequentare nessuno è chiaro che tutto questo ha prodotto tutta una situazione io ricordo noi il gruppo di amici abbiamo avuto bisogno di anni per poter ritornare alla nostra quotidianità anche a scuola cioè la nostra scuola tra l'altro per un periodo fu anche aveva addirittura la polizia fuori cioè era una situazione particolare è chiaro che abbiamo avuto la fortuna di avere dei buoni insegnanti e di avere anche una buona genitorialità che ci ha aiutato ma quando le persone non hanno questa possibilità non hanno un ancoraggio si perdono si smarriscono e la risposta necessaria a tutto questo per sopravvivere è quella di come dire chiudersi all'interno di sé e poi purtroppo produrre quello che può essere un disturbo depressivo o un disturbo di ansia e questo per chiudere e per sdrammatizzare alleggerire ringrazio la dottoressa Barbara Fabbroni ci saluti anche quella meravigliosa creatura che ogni tanto vedo muoversi vicino a lei è il mio cagnolino è il suo cagnolino che si chiama si chiama Sigillo e si è già sentito in causa perché si è mosso appena abbiamo parlato di lui evidentemente è stato colpito ho visto che si è alzato ha capito che stiamo parlando di lui grazie dottoressa Fabbroni alla prossima puntata buonasera grazie naturalmente un saluto anche al cagnolino della psicoterapeuta e giornalista che è una delle nostre compagne di viaggio per le conclusioni con Gianluca Cicinelli ecco se la regia è pronta mentre Gianluca Cicinelli va alle conclusioni ci tenevo a mostrare come è andato bene lo spazio che abbiamo dedicato a coperti a destra un po' di mesi fa parliamo sempre di uno speciale sul caso Aldomoro su Youtube ecco questa la puntata precedente vedete anche per confermare proprio quello che ci ha appena detto la dottoressa Fabbroni che è un caso che ancora smuove molto e incuriosisce molto l'opinione pubblica tanti commenti e quasi 6.000 visualizzazioni come detto non è tanto che è sulla rete lo trovate sul canale Youtube di Cusano Italia TV dove ci sono caricate tutte le puntate della serie di crimini e criminologia che tra poco compie due anni perché abbiamo iniziato nel giugno del 2020 ecco le conclusioni con Gianluca Cicinelli quelle che sono poi le conclusioni che tu fai nella video inchiesta coperti a destra possiamo anche rivedere la copertina del DVD di Gianluca Cicinelli per chiudere Gianluca ma intanto io ti ringrazio davvero Fabio ringrazio te la redazione Telebusano perché veramente insomma hai dato uno spazio enorme al mio lavoro ma hai fatto bene e chiarisce tante cioè fa riflettere fa riflettere molto e quindi merita di essere portato in evidenza abbiamo cercato appunto tra persone serie e professionisti soprattutto di non cedere al facile scuppismo diciamo così no? a quella quell'abitudine che è anche normale per i giornalisti di trovare ipotesi suggestive che però poi non sono suffragate dai fatti al punto tale che abbiamo tolto i testimoni appunto dalla scena per far parlare soltanto le armi e le munizioni i possoli e le macchie di sangue che abbiamo trovato nelle conclusioni appunto poi tra l'altro tu che hai chiesto a Minervini cosa si poteva fare ancora ecco una perizia in scala 1 a 1 il rock drill così si chiama in in America può essere una soluzione per esempio per quanto riguarda Via Fai perché diciamo la chiave cercare la chiave di Via Fani nell'inizio diciamo del rabbimento anziché oggi ricordiamo la conclusione perché all'inizio c'è ci sono le uniche prove certe di quanto è accaduto e per questo che non tornano nelle parole dei testimoni che in altre in tutti gli altri capitoli della vicenda Moro via Grado di il falso comunicato del lago della Tuchessa e via dicendo sono supportate da testimonianze che poi si aggiustano anche nel corso dei temi e quindi diciamo abbiamo cercato di provare la chiave in Via Fani cioè nell'inizio in quella sparatoria iniziale perché lì ci sono delle prove materiali questo ecco diciamo il giornalismo dovrebbe fare non per insegnare gli altri quello che devono fare ma che insomma per dire che ci sta uno della raffa come sta ipotizzato bisogna avere le prove insomma e noi queste prove non ce le abbiamo l'altra cosa è che come detto si è sempre concentrato questo tipo di attività di ricerca nel chiedere brigatistiche ripeto quel limite è stato di informazioni possibile è stato raggiunto ora c'è lo Stato che 44 anni dopo non vede continuità nelle persone cioè non ci sono al potere o anche quelle amministrazioni del potere che noi cittadini normali non conosciamo i vari dipartimenti amministrativi anche degli stessi servizi che dicendo quindi c'è una continuità amministrativa una continuità ideologica nel far mancare informazioni ai cittadini su quello che come tu hai giustamente detto è l'episodio più grave della storia italiana e questo è in questo sicuramente il mistero più grave esatto lo Stato rischia di diventare contice cioè rischia insomma io lo uso per riguardo nel tuo programma insomma per non incorrere in falli senti siamo siamo in chiusura almeno di questo capitolo e sto per salutarti ma Gianluca da Bologna Maria Antonietta da Roma e Michele da Napoli questi tre messaggi li abbiamo selezionati perché chiedono dove si può trovare acquistare il DVD coperti a destra come possiamo aiutarli? Ah possono inviare una email coperti a destra tutto attaccato e minuscolo coperti a destra chiocciolagmail.com e poi fornerò le indicazioni ecco allora Gianluca da Bologna Maria Antonietta da Roma Michele da Napoli avete sentito così potete perché ovviamente tante cose purtroppo per motivi di tempo non abbiamo potuto approfondirle si vedeva nell'immagine della storia della Austin Morris si correvano 20 ore insomma anche quel particolare fornito da Andrea Guidi sulle targhe loro hanno fatto tutta una ricerca e lì bisogna aprire tutto un capitolo è chiaro è chiaro e ora siamo lunghissimi non possiamo andare oltre grazie a Gianluca Cicinelli grazie a voi ai prossimi appuntamenti grazie a voi e noi tra poco torniamo volteremo pagina andremo alla galleria degli orrori ritroveremo il nostro narratore storico il professor Marino d'amore che ci parlerà di Richard Trenton Chase il vampiro di Sacramento e restate sintonizzati perché questo serial killer è da seguire da scoprire merita nella sua assoluta follia a tra poco ben ritrovati da Fabio Camillacci sesto e ultimo capitolo di crimini e criminologia le conclusioni e come sempre per le conclusioni abbiamo collegato il nostro opinionista giornalista e criminologo eccolo il presidente di Assotutela Michel Maritato buonasera 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 a voi tutti buonasera Fabio abbiamo cambiato look presidente non ha più la barba ringiovanito sei veramente un bambino sembra il nostro presidente di Assotutela il nostro opinionista abbiamo anche tanti contributi altri che abbiamo estrapolato dalla video inchiesta di Gianluca Cicinelli coperti a destra il presidente credo ci abbia seguito nei capitoli precedenti conosceva già il lavoro e conosce già Cicinelli comunque ecco volevo un giudizio su questa video inchiesta che aiuta a capire tante cose del caso Moro ma Fabio tu come ben sai ormai ci conosciamo da anni parliamo insomma spesso di di queste casistiche parliamo spesso insomma del caso Moro il caso Pasolini Manuela d'Orlani insomma abbiamo sempre diversi contributi da affrontare insieme e diciamo che questo che abbiamo visto nei precedenti capitoli è uno di quelli più completi che a mio avviso potrebbe veramente dare una svolta all'inchiesta che chiusa ormai sempre con la solita scusa di dover trovare necessariamente un colpevole perché sono state accusate le Brigade Rosse ma io non sono così sicuro che siano le Brigade Rosse e soprattutto non sono così sicuro come non è sicuro il nostro collega che ha fatto questa video inchiesta di come sono andate le cose e quindi chiaramente magari seguirlo perché no potrebbe aiutare a trovare una soluzione diversa da quella che invece mediaticamente è stata decisa e sì perché poi troppe cose non tornano tra quello che hanno detto le BR e quello che poi hanno appurato i periti e gli inquirenti ci sono ad esempio varie versioni a proposito del ruolo di Mario Moretti la staffetta abbiamo visto prima anche le animazioni della video inchiesta coperte a destra la staffetta che segnala l'arrivo del corteo presidenziale con la Fiat 130 di Aldomoro e l'alfetta della Scorta quindi una staffetta che dice sta arrivando e poi all'incrocio con via Stresa comincia l'azione c'è la versione invece di Moretti che ha una macchina parcheggiata e quando viene avvertito da quell'altra figura misteriosa di Riafani della moto si è parlato anche di una misteriosa moto stasera non abbiamo avuto modo di parlarne perché abbiamo trattato altre cose allora esce dal parcheggio poi inchioda l'incrocio causando l'incidente tra l'alfetta e la Fiat 130 di Moro o addirittura la versione che Moretti fosse stato a bordo di una macchina parcheggiata in via Stresa e poi avesse fatto marcia indietro per arrivare all'incrocio e quindi causare l'incidente tra la Fiat 130 e l'alfetta ecco questi alcuni dei tanti lati oscuri ma mi ha colpito molto quando Cicinelli ha chiesto alla dottoressa Fabbroni ha fatto riferimento all'uomo nero dicendo il caso Moro è l'uomo nero per spaventare noi italiani io ho parlato di strategia della tensione a 360 gradi però quanti di questi uomini neri a proposito di mostri che mettono paura ai bambini ne abbiamo nella storia della nostra Repubblica Maritato tanti anche il caso Pasolini può essere assolutamente sì ne abbiamo tantissimi di questi casi sono casi che sono rimasti risolti o sono stati risolti immediatamente con le risposte che lo Stato non lo Stato la politica del momento voleva e che lo Stato gli ha dato quindi dove noi abbiamo cercato la giustizia abbiamo trovato la legge e la legge ha interpretato quello che voleva sentirsi dire la politica in quel momento e quindi hanno dato delle sentenze sono state fatte le sentenze mediatiche dei processi mediatici che hanno dato delle risposte che servivano per poter zittire l'opinione pubblica e per poterla plagiare queste chiaramente sono mie idee e di tanti altri penso anche le tue ma io chiaramente mi prendo responsabilità di quello che dico liberandoli perché comunque tu sei il conduttore liberando l'editore ma ci sono dei lati oscuri nella nostra storia italiana fra cui quella del presidente Moro che al quale io ho dato anche un'interpretazione esoterica è stato ucciso è stato trovato ucciso in un posto ben preciso della numerologia ed è stato tenuto in barba nei servizi segreti per 55 giorni dove il canto 55 e 5 di Dante canta la fine del principe Mor anche questo non a caso il nome di Aldo Moro con il principe Mor sa significare la fine del mondo della politica capitalistica nazionale e l'avvento della nascita dell'Europa ecco la la fine di Moro in chiave esoterica stabilisce la fine di un'era di un'epoca politica capitalistica comandata dalla democrazia cristiana alla quale voleva essere unita anche la politica di sinistra ma che non è stato possibile fare ricordiamo che per lo stesso motivo probabilmente a mio avviso è morto anche Pasolini e quindi tutto questo si lega con tanti altri omicidi suicidi o finti rapimenti e finti omicidi che ci sono stati negli anni a seguire fino ad arrivare al 94 96 l'ultimo probabilmente con Raul Gardini che sono esattamente degli omicidi non di stato come dicono ma sono degli omicidi politici curati dalla strategia del terrore dallo stragismo degli anni di piongo a tutto quello che serviva come disse un politico molto influente molto famoso a me molto caro e molto amico solo Dio sa quanto è utile perpetare il male per poter poi usufruire del bene ecco probabilmente in questa funzione rientrano gli omicidi di Moro gli omicidi di Pasolini e tanti altri omicidi passando fino alla fine il suicidio di Raul Gardini per l'omicidio dalla Chiesa per i tanti omicidi che sono accaduti in tutti questi anni fino al 1994-95 ecco ci ha regalato questa chicca interessante sempre molto legato e diciamo così preparato su l'aspetto esoterismo il presidente Maritato quindi questa è una cosa interessante se poi ci leghiamo il fatto che Moro fu il protagonista della prima vera e propria apertura a sinistra no? assolutamente sì centrosinistra organico nel 1963 quello fu il primo centrosinistra l'apertura ai socialisti di Nenni guarda caso l'anno dopo nel 64 c'è il famoso tintinnar di sciabbole a proposito di quello che fu il piano solo il tentato colpo di stato con il generale De Lorenzo sta piano solo perché solo i carabinieri avrebbero dovuto ovviamente quelli deviati partecipare a quel colpo di stato perché l'Italia sta dal centrismo del gasperiano stava andando verso appunto un centrosinistra c'era chi la voleva riportare a destra con quel colpo di stato quindi poi il fatto di aver aperto addirittura il partito comunista italiano ho detto prima quella è stata sicuramente la tomba del povero Aldomoro è stata la tomba del povero Aldomoro è stata la tomba di tanti altri pensatori successivi che volevano questa grande alleanza di centrosinistra che poi sposciò e qui Fabio mi puoi aiutare più tu nella storia politica della nostra nazione negli anni 91-92 mi sembra con i progressisti se non mi sbaglio fu quello l'anno in cui insomma progressisti intendi la mutazione del partito comunista in PDS esatto allargato che poi portò alla formazione dell'Ulivo fino a poi oggi ad arrivare al PD ecco nel 96 l'Ulivo di Prodi andava al potere vincendo le elezioni politiche del 96 il processo inizia con Achille Occhetto la svolta della Bolognina 91 poi lentamente poi le elezioni che sembrava dovesse vincere a mani basse il partito democratico della sinistra le stravinse Silvio Berlusconi con il polo della libertà e il polo del buon governo al nord l'alleanza con la Lega al sud l'alleanza con l'allora movimento sociale italiano sì quello è il periodo infatti anche qui la vittoria di Silvio Berlusconi letta in chiave esoterica dalla come dicevo prima sono molto preparati in queste chiavi esoteriche perché io comunque insegno linguaggio esoterico alle forze di polizia per riconoscere sui cadaveri o sugli omicidi o sui suicidi o sui simboli all'interno delle carceri il linguaggio della simbologia esoterica e magica per capire se ci sono legami con la magia e l'esoterismo ecco leggere la politica nazionale internazionale sovranazionale in chiave esoterica ci dà la possibilità tramite la numerologia la cabala e tante altre interpretazioni di poter capire determinate situazioni come la vittoria di Berlusconi che se andiamo a leggere ci dà una chiara una chiara lettura esoterica della rinascita del nuovo con la formazione della casa delle libertà la casa delle libertà che all'interno delle scritture sacre rappresenta il regno di re Salomone dove si fa freggio e si fa cultura all'interno della massoneria quella vera quella buona non quella massoneria deviata che conosciamo come la P2 ma quella esoterica dove si fa il principio dove si erge il principio della casa delle libertà e quindi della nascita della nuova vita infatti con Berlusconi si sancì la nascita della nuova vita capitalistica italiana un'Italia industriale un'Italia 2.0 che poi portò tutto questo fino ai giorni nostri nell'avvento poi dell'ignoranza politica perché portò l'ignoranza politica perché si era presa una conoscenza troppo forte della sovrastruttura internazionale delle urlogie massoniche gli imperitori cominciavano a avere la forza sulla politica e quindi chiaramente si è dovuto in qualche modo far fuori la vecchia politica come Craxi come Andreot Maxi Process e quant'altro perché evidentemente non faceva più comodo avere una classe dirigente intelligente pensante fino ad arrivare oggi a una classe del tutto ignorante o quasi del tutto ignorante presa dal popolo come la nascita del Movimento 5 Stelle che poi è durato da Natale a Santo Stefano ed è stato autodistrutto e sia un imploso quindi stiamo per ritornare al passato stiamo per ritornare probabilmente alla prima repubblica ma non ci riusciremo perché le menti delle persone sono annichilite vengono distrutte e vengono manipolate tramite i social quindi non avremo finiti noi non avremo una nuova classe dirigente questa classe dirigente probabilmente si sta formando grazie al presidente Bandecchi che regala borse di studio all'università stavo per aggiungere universitas libertà a proposito di formazione di scuola politica la dc la faceva una volta anche il partito comunista che è persa questa esatto ci stava arrivando infatti tramite adesso questo grande progetto politico universitas libertà fortemente voluto da Silvio Berlusconi e coadiuvata dal suo consigliere personale il nostro presidente Bandecchi Stefano che probabilmente sta qui per poter ristrutturare quella classe dirigente che sta mancando perché ormai oggi i ragazzi dall'età preadolescenziale fino ai 22 23 24 altra volta vedo anche trentenni vengono annichiliti da TikTok Instagram Facebook e vari social cioè le persone passano ore e ore sui social a fare nulla a incollati a guardare la nullità perché chi frequenta questi posti in maniera assidua in questo modo può vedere semplicemente nullità dei falsi miti di persone che vivono a fare TikTok o a fare Instagram stati social di Instagram ma non rendono onore alla loro cultura non rendono onore al loro studio e non aprono la mente quindi noi purtroppo saremo schiavi di questa gente che quando noi saremo anziani saranno i nostri futuri dirigenti non abbiamo più una classe dirigente questo è stato creato proprio perché l'economia quindi la scelta economica della politica economica ormai non è più in mano alla politica ma in mano alle grosse industrie che scelgono per la politica e quindi chiaramente scelgono dei politici da manipolare che non sono di certo Andreotti Aldo Moro Nenni De Gasperi e compagnia dicendo e quindi chiaramente ci troviamo oggi in una situazione gravissima che non possiamo probabilmente risvegliare probabilmente siamo in un comi irreversibile io mi auguro che l'Uni Libertatis possa fare qualcosa per risvegliare questi vecchi sentimenti della politica di un tempo e di poter riportare agli albori questa nazione ormai in macerie in mano a politicanti veramente da da Instagram come direbbe qualcuno no? perché ormai la politica la fanno su Instagram ecco torniamo a Viafani e torniamo al titolo che avete visto a proposito dei misteri del caso Moro 44 anni dopo coperti a destra perché quel lato destro l'hanno voluto coprire per far capire che a sparare fu soltanto il lato sinistro e quindi quelli i brigatisti che uscirono dalle siepi dietro al bar Olivetti vestiti da dipendenti dell'Alitalia andiamo ad un altro contributo importante estratto da coperti a destra in Viafani furono usate tutte armi italiane non modernissime anzi l'abbiamo detto col perito pari dei minervini prima non erano affidabili le armi utilizzate Domenico Davanzo altro esperto balistico che ha svolto una ricerca filologica su come le perizie della polizia scientifica negli anni hanno raccontato il caso Moro si è parlato a lungo di un super killer in Viafani alcuni testimoni hanno addirittura parlato di un uomo che dava ordini in tedesco e qui torniamo al presunto ruolo della RAF i terroristi tedeschi e continuava a sparare come se fosse un grande esperto di armi e soprattutto secondo Morucci durante la sparatoria il Mitra FNA 43 imbracciato da Bonisoli si inceppò su questo sentiamo Domenico Davanzo esperto balistico anche lui fa parte del collettivo 16 di marzo l'altro FNA 43 invece era a Cageletto Alto quindi Cageletto Alto noi intendiamo dove era la Mini Verde la Mini di Moscardi praticamente doveva diciamo secondo il memoriale Morucci lo imbracciava a Bonisoli questo FNA spara 49 colpi in un caricatore ci sono dipende ci sono caricatori da 20 da 30 e da 40 in questo caso erano caricatori del Mab il Mab era un mitra italiano della seconda guerra mondiale e questi caricatori erano caricatori intercambiabili per cui andavano bene sia per il Mab sia per i mitra italiani e questi sono tutti i mitra italiani che abbiamo a Biafani sia l'FNA sia l'M12 sia il TZ come vedremo 45 sono mitra italiani quindi noi non sappiamo effettivamente quale caricatore avesse Bonisoli però ammettendo anche che avessi avuto il caricatore da 40 siccome l'arma spara 49 colpi sicuramente ha cambiato il caricatore diciamo il killer che ha sparato con l'FNA 43 da dietro la mini verde praticamente spara in tre momenti diversi comincia a sparare sull'alfetta in corsa da dietro la mini poi avanza verso Giozzino che si butta fuori del rimasto in strada e praticamente spara un altro raffico una lunga raffica una litina di colpi Giozzino cade perché gli viene colpito il femore quindi a un certo punto cade e lui si accanisce ancora su Giozzino per terra fino ad arrivare al lato destro dove spara ancora qualche colpo quindi praticamente noi abbiamo una scia di bossoli che lascia quest'arma senza interruzione di continuità per cui dire che l'arma è inceppato è impossibile oggettivamente è impossibile per cui quando si dice che Bonisoli avrebbe avuto quest'arma e avrebbe sparato mezzo caricatore e quindi sarebbero 15 colpi mettiamo e poi avrebbe inceppato e avrebbe preso la pistola che aveva la cintola per continuare a sparare si dice una cosa che è indimostrabile anzi una cosa che va contro le evidenze oggettive non solo non inceppa riesce anche a sparare un 9 corto che stava erroneamente in uno dei caricatori senza inceppare cioè riesce a macinare anche quello pur avendo una carica più ridotta riesce a macinare quindi l'arma è efficiente benché sia un'arma vecchia usurata e avesse la canna diciamo senza rigature ormai però l'arma è efficiente e chi la usò era efficiente cioè non ebbe timore cambiò il caricatore andò avanti e questo stride ovviamente con quanto dichiarato dai brigatisti che hanno detto di non essersi mai addestrati a sparare se non qualche volta occasionalmente e al fatto che si trattasse di armi inaffidabili erano armi vecchie sì ma ha detto il perito Domenico D'Avanzo l'esperto balistico comunque funzionanti e efficienti ecco Michel Maritato questo è un aspetto ma nell'ambito dei 55 giorni del caso Moro e per 44 anni perché è evidente che pezzi di Stato come ha detto Gianluca Cicinelli si sono fatti e continuano a farsi la guerra a colpi di depistaggi ecco perché poi torniamo sempre lì al mistero più grande sicuramente della nostra Repubblica ma Gianluca chiaramente è maestro e io daco tanta preparazione non mi permetto di dire oltre quello che ha detto lui insomma gode della mia della tua stima della nostra stima insomma un collega rispettabilissimo dal quale io mi ispiro quindi mi posso solo che dare ragione e abbiamo la possibilità di capire che sono stati sparati dei colpi da delle armi vecchie ma con una precisione estrema che non hanno colpito alcune persone che dovevano essere colpite probabilmente da analisi balistiche ma hanno colpito precisamente Moro in determinati punti ecco questo ci fa capire che probabilmente chi ha sparato non sono stati i brigadisti come ci hanno detto che si esercitavano a salve peraltro a casa di uno di loro ogni tanto ma hanno sparato dei professionisti la voce tedesca nel caso Moro non è la prima volta che compare è comparsa anche poi successivamente in altre occasioni e rileggendo sempre questo caso ma non perché io voglia portare la discussione nella mia zona di comfort ma proprio perché ci sono dei collegamenti importantissimi Aldo Moro ripeto sancisce la fine di una vecchia politica per la nascita dell'Europa la nascita dell'Europa con un progetto studiato 30 anni 40 anni prima di Moro da François Perroux che fu lo stesso che poi portò alla seconda guerra mondiale ed oggi ci ha portato alla moneta unica all'Europa unica in questo nazismo monetario dove a comandare il ponte franco tedesco e quindi ritorniamo qui ancora all'intervento dei servizi segreti tedeschi a comandare l'Europa sono questo ponte franco tedesco con l'idea del filosofo economista François Perroux che porterà all'impoverimento degli stati e ricordiamo voglio fare un appunto Kennedy fu fu aggredito fu colpito dopo aver fatto alcune dichiarazioni e questo non lo dicono tutti i giornali ma si può poi leggere si può vedere sulle banche centrali sull'annullamento del debito e non dell'utilizzo del debito pubblico del New Modern Money Mechanics Aldo Moro voleva allargare la sinistra i governi della sinistra all'interno della democrazia quindi fare un grande centrosinistra moderato e aveva incominciato a dare contro alle politiche economiche della banca centrale con non l'utilizzo del debito pubblico ed ecco qui che questo andava a contrastare con il grande progetto di François Perrou ecco qui che non si sarebbe potuto sviluppare l'euro ricordiamo che l'euro è una moneta che non ha proprietari perché ricordiamo che la comunità europea non stampa denaro lo stampano le banche centrali come ci disse peraltro l'amico David Sassoli il presidente purtroppo ormai non c'è più prima di raggiungere insomma nostro signore David aveva chiesto di annullare le banche centrali il debito dell'interesse da stampa della moneta per il covid ecco questo qui era un pensiero che aveva già istituito Moro che aveva già istituito Kennedy dell'annullare il debito pubblico degli stati hanno fatto una brutta fine ecco io a pensare male molto spesso si fa il peccato ma ci si indovina come diceva sempre quell'amico e quell'amico diceva anche amo così tanto la Germania che ne preferisco due per tornare allo strapotere tedesco esattamente per tornare sempre al pensiero il ponte franco tedesco e oggi dobbiamo vedere possiamo vedere come la governance europea viene alternata tra una volta la Francia una volta la Germania una volta la Germania una volta la Francia gli altri stati sembra che siano dei vassalli stanno lì a servire umilmente queste grandi potenze che ormai da cento anni eseguono questo progetto e chiunque osi mettersi contro a questo progetto probabilmente ha un destino segnato quindi mi chiedo probabilmente la chiave di lettura di questi omicidi suicidi colpi tentati omicidi e quant'altro potrebbe essere la politica economica internazionale europea e con questo interrogativo con questo interrogativo ci salutiamo non so se all'interrogativo ci voleva dare anche la risposta o è soltanto beh no la risposta l'ho data prima eh appunto chiaramente non posso non posso siamo in una trasmissione pubblica un servizio pubblico privato ma pubblico perché è di formazione globale ma in tutta Italia io esattamente nazionale ho fatto ho fatto ho lanciato la sfida poi nelle prossime puntate magari qualche terascoltatore che vuole fare delle domande possiamo rispondere direttamente certo magari riproporremo l'interrogativo insieme al presidente maritato se è possibile chiedo alla regia di inquadrare tag24.it quello che è il quotidiano online dell'università Nicolò Cusano con tutti gli aggiornamenti ovviamente domenica di di sport c'è tantissimo sport nel fine settimana su tag24 Bayuni Cusano ma come vedete nella foto di Putin ovviamente tante informazioni che riguardano l'informazione generalista e soprattutto a proposito del conflitto in Ucraina vi ricordo tutti i giorni l'accadde oggi curato dalla redazione della storia oscura e di a spasso nel tempo ma non è un accadde oggi con la lista di eventi come fanno in tanti noi selezioniamo un fatto storico e lo approfondiamo in base al giorno ovviamente siamo già al 9 maggio è passata la mezzanotte oggi l'accadde oggi e poi vi proporremo anche con tanto di scheda filmata all'interno di pomeriggio con noi con Deborah Carletti e Francesco Acchiardi è dedicato al 9 maggio del 1978 proprio al ritrovamento del corpo senza vita dell'onorevole Aldo Moro in una Reno 4 rossa in via Caetani in pieno centro a Roma grazie al nostro opinionista sempre più caustico Michel Maritato ci rivediamo domenica prossima grazie a te Fabio grazie a voi grazie ai telescoltatori grazie soprattutto a Stefano Bandecchi il presidente che permette queste trasmissioni oltre le righe dove si può veramente dire la verità e non bisogna rispondere al bavaglio della stampa italiana grazie ancora al nostro opinionista giornalista e criminologo Michel Maritato presidente di Asso tutela ringrazio Giorgio Mastro Giacomo che ha dato una importante mano in redazione non solo con la regia di Emanuele Porcina grazie a Aurora Vena la scheda copertina di presentazione la sua grazie a Manuel Mazzei che è dall'altra parte della regia la regia centrale e poi chi ha lavorato in post produzione Daniele Loda Sofia Puppo e la nostra Claudia Di Fonzo che ha montato la scheda di Aurora Vena sulla vicenda Moro è tutto per questa sera e questa puntata di Crimini e Criminologia la linea passa a Francesca Pierri per il TG di Cusano Italia TV il TG della notte noi ci rivediamo domenica prossima qui sul 264 del digitale terrestre con Crimini e Criminologia buonanotte di nuanced che sembra che sa di